Sì, perché c'è un ragazzo in particolare che me l'ha chiesto perché sta di turno fare infermiere. Allora, noi oggi parliamo del funzionamento di questi mixer digitali. Allora, è un ciclo di lezioni, in particolare due lezioni su questi dispositivi. Questo è il mixer che troverete nel nuovo Studios Academy, nella sezione teatrale. Abbiamo fatto una sezione teatro live e questo sarà il mixer principale che, unito alla stage box di palco, sempre collegata digitalmente, come vedremo successivamente, sarà il dispositivo principale per questo teatro che stiamo realizzando. In ogni caso, le cose che spiegheremo di questo mixer digitale sono analoghe per tanti altri mixer. Nel senso, il concetto di Fat Channel, alcuni concetti generali che andremo a vedere, Game Staging e via dicendo, gli effetti live, sono analoghi a tanti altri mixer. Quindi, cose che impareremo su questo mixer non sono finalizzate solamente all'utilizzo di questo singolo dispositivo, ma sono concetti più generali che vanno bene per qualsiasi altro tipo di dispositivo. Allora, noi abbiamo lavorato tanto con questo mixer, è un mixer della Presonus, noi abbiamo quella versione 32S, questa dietro, che è sia mixer che controller, quindi mixer live che controller delle DO, che interfaccia audio a 64 canali, quindi riesce a prendere 64 canali e mandarli nel computer. Come fa? Lo fa perché c'erano solo 32 fisici, sostanzialmente, lo fa perché riesce a prendere altri canali dal suo stesso interno, come vedremo, c'è la possibilità di avere una parte di tracce sull'SD, oppure per il tramite di una rete, AVB, che collega diversi di questi dispositivi tra loro. In che senso? Nel senso che questi dispositivi che vedete possono essere accoppiati tramite una connessione AVB, quindi una connessione sostanzialmente che collega tramite CAT6 in rete questi singoli dispositivi. Quindi da ogni singolo dispositivo puoi operare su qualsiasi tipo di canale e puoi fare diverse cose, cominciamo a dire qualche cosa, per esempio uno di questi dispositivi tipicamente viene utilizzato per l'FOH front of house, quindi per il main di una situazione live, un altro secondo dispositivo collegato in rete può essere utilizzato per fare il mixer di palco, il classico mixer di palco live, quindi dedicato a mandare gli ascolti in cuffia o nelle casse spia ai performer di palco, certo questo periodo, detto adesso sembra assurdo perché purtroppo però questi periodi passeranno, ecco passeranno. Anzi per farci un po' di coraggio ricordiamoci che il più grosso incremento economico l'Italia ce l'ha avuto dopo la guerra, quindi la distruzione totale, quindi questo passerà velocemente. Quindi in questa rete come vedremo più avanti sono collegati diversi dispositivi, quindi diversi mixer possono essere collegati, noi nel nostro studio abbiamo due di questi, abbiamo il 32 canali come mixer diciamo front of house e un altro 16 canali che farà il mixer di palco. Chiaramente le due cose sono intercambiabili, non è che se uno fa il mixer principale non può fare anche l'AUX e viceversa. Considerate che questi dispositivi hanno 16 AUX, 16 uscite, quindi puoi avere 16 ascolti in cuffia oppure 16 casse, e quindi tipicamente in contesti più complicati si fa gestire tutta la parte di palco ad un mixer separato per evitare di sovraccaricare il fonico nelle sue cose. Il mixer di palco poi oltretutto sta sul palco, cioè tipicamente non so se l'avete visto ma nei live, il mixer di palco sta sul palco perché ascolta e dialoga rapidamente con gli artisti e quindi riesce a mandargli quello che loro vogliono guardandoli in faccia sostanzialmente, quindi facendo un lavoro più dettagliato. Poi diciamo anche quando io ho fatto il mixer di palco, quando mi capita, questo tipo di mixer digitali ha un routing molto diciamo elastico e quindi puoi ascoltare la stessa cosa che sente l'artista in ognuno dei 16 AUX e quindi tu praticamente puoi metterti in parallelo e ascoltare volta per volta quello che sente lui. Per esempio Pierangelo Ambroselli quando va a fare i live con Noemi, siccome lei è un po' osservatica che si leva queste cuffie e se le rimette fa un casino, lui quando fa il mixer di palco si mette le cuffie e sente esattamente quello che sente Noemi, per evitare che possa esserci uno scostamento e lo fa anche quando fa il mixer sia di palco che front of house perché lui si mette le cuffie e alterna le cuffie al live per capire quello che sente il performer principale, però capite che è un po' più complicato, specialmente nei pezzi in cui devi mandare tu il delay e le varie cose, insomma può essere una cosa che può risultare piuttosto complicata. Allora, quale differenza c'è tra un mixer digitale e un mixer analogico? Mixer analogico come questo qui, questo vale in generale. Mixer analogico non ha la possibilità di modificare i routing internamente come fa questo tipo di mixer qua, perché ha i canali fissi, ok? Quindi tu non puoi dire il canale 1 che deve essere copiato sul canale 5, cioè via dicendo, in analogia con quello che succede con un software di questi moderni. Questi mixer digitali invece hanno questo tipo di predisposizione. In particolare questi, come dicevamo prima, sono anche schede audio e quindi realmente sono schede audio a 32 canali. È ovvio, visto il prezzo, che questo tipo di dispositivi sono più orientati a live piuttosto che allo studio di registrazione. Cioè noi quando vediamo qui questo dispositivo che ha 32 canali, non dobbiamo pensare a una scheda audio 32 canali di tipo professionale per lo studio di registrazione, perché ha un max input level molto basso, per cui non ha molta dinamica. Quindi il problema è che questo tipo di dispositivi può essere utilizzato nella studio di registrazione senza avere pretese professionali di una grande dinamica. ed è molto percettibile facendo un confronto uno a uno. Noi abbiamo fatto i confronti con questo studio, proprio con Pierangelo, e con le schede audio della Steinberg, la 842 in particolare, e il confronto è imbarazzante. Cioè ti accorgi subito che non è possibile fare una registrazione professionale con una cosa del genere. È evidente che in un contesto live, invece, dove la pretesa non è molto approfondita, cioè sostanzialmente in un concerto live, quello che conta oltre alla performance, oltre all'audio è la performance, diciamo l'aspetto altamente definito e con una grandissima dinamica viene meno a vantaggio del resto. Quindi praticamente è un mixer che è preferibilmente fatto per i live e può fare anche studio di registrazione, ma questo è il passaggio. E all'interno ha anche un registratore incorporato che può registrare tutte le 64 tracce, scusate, tutte le 32 tracce fisiche dentro a una schedina SD che si inserisce qui. e chiaramente fa un test iniziale. Dunque, stavo dicendo, noi faremo una seconda lezione dove faremo vedere materialmente il mixer, la facciamo con Pierangelo e la manderemo sempre su queste lezioni Zoom e poi la streameremo sulla nostra pagina. Lo aiuto io, faccio delle riprese un po' dettagliate in modo che sia facile capire tutti i passaggi e vedremo che, proprio come stavo dicendo, queste schedine SD devono essere schedine ad alta velocità, quindi sopra i 100 megabit al secondo e questo mixer può fare un test. Cioè riesce a fare il test per far capire quante tracce in contemporanea può prendere su una schedina. Voi considerate che una schedina da, dunque mi pare che il limite massimo che lui ha è 32 gigabyte, gigabyte sì, una schedina del genere può prendere 32 tracce per 7-8 ore, quindi tantissimo, cioè riesce a fare un lavorone. Senza avere computer e niente, voi considerate fatta apposta per i contesti live, cioè avere solamente questo dispositivo, nella speranza che nessuno si colleghi alle ciabatte di collegamento elettrico per caricare il cellulare o staccando la spina del mixer, come mi è capitato a me una volta quando ero più giovane, in un contesto live, che c'erano una ragazza, c'erano i cellulari, scusa? Sì, beh, ti parlo, beh, c'erano, io nel 93-94, una ragazza staccò, ma il 93 quanti anni c'erano? Mica tanti, eh. Dai, esistevano già i cellulari in quel periodo. Più giovane, ha detto, meno vecchio, voi preferisci te lo dico. Ok, quando ero meno vecchio, in un contesto live, una ragazza ha staccato la spina principale di un mixer, quindi è un botto impressionante, quindi per mettere sto cellulare in carica. Ok, quindi, se non succede questo, ce la fa caricare tranquillamente. In particolare, nei contesti live molto accaldati, questo è una considerazione generale, si può dire che in questa zona qui, dove c'è un trasformatore, questo mixer ha un problema, perché si surriscalda. E surriscaldandosi, questa è l'unica nota negativa che ho trovato in questo mixer, e va in blocco tutto. Cioè, lui va in blocco e mantiene una posizione di sicurezza identica all'ultima situazione impostata. Quindi lui blocca tutto e rimane tutto nello stesso volume, così com'è. Quindi ti consente di dire, scusate, mi sono scordato di mettere un ventilatore, oppure non lo sapevo, e quindi di staccare tutto, spegnere e riaccendere. Considerate che lo spegnimento di questi dispositivi non è uno spegnimento della lampadina, è una procedura di spegnimento analoga a quella di un computer. Quindi c'è, devi dare i comandi di spegnimento, non puoi staccare la spina e basta, perché si rovina. Diciamo che non è una bella cosa, eh. Non è una bella cosa, però hanno pensato a questo, cioè quando va in blocco, prima di staccare tutto, lui stacca tutti i processori interni e te lo mantiene frizzato. Quindi per alleggerire un po', per consentire sta cosa. Non è una bella cosa, però quando fa molto caldo, qui parliamo di contesti estivi a 40 gradi. Io te lo posso confermare, Fulio, eh. Perché alle isole OLE è capitato che noi avevamo una serata e il fonico l'ha lasciato lì e non abbiamo... Abbiamo fatto quella serata con un Behringer. Esatto. Io però lo so e metto il ventilatore qua. Mettono un ventilatore in questa zona qui e va benissimo. Ma il tipo non lo sapeva e c'era... Eh, lo so. Peggio ancora, un altro che mi si è presentato un service che aveva inventato tutto un flight case. Secondo lui non doveva tirar fuori il mix perché era perfetto, toglia solamente dove stavano i father davanti. Gli ho fatto notare che questo sarebbe andato in sull'iscaldamento e si sarebbe bloccato. Ma guarda, è successo a me su un live che il fonico lo aveva messo come hai detto te, Furio, dentro un case. Però in quella situazione pioveva, c'era umidità e questo mixer qua ha preso umidità e sta con un macello. Si è... Cominciava a non... Cominciava... Sì, vabbè. Insomma, va trattato come sta scritto nel manuale. Sì. Non deve essere rinfrescato, non deve stare sotto al sole, eccetera, eccetera. È un ottio mixer a prezzi ridicoli. Se voi pensate che un mixer del genere costa 2700 euro, con tutti gli accorgimenti interni, capite che è un prezzo bassissimo. Meno prendi quello della Zoom e almeno non si blocca. Qual è quello della Zoom? Zoom live track non mi ricordo. Io uso il 12 e non mi si è mai bloccato. Questo ha delle caratteristiche totalmente differenti, eh. Perché? Puoi registrare anche con questo. C'ha 32 canali fisici in ingresso, quello? 29 mi sembra. Lavora in rete? Non lo so, ma adesso questo io non conosco questo dispositivo. Certamente ci sta la concorrenza, esiste, ovvio. Guarda, come io uso il volo e mi porto dietro anche per registrare, è questo qua. Chiasca, questo è inutilizzabile in contesti live, ovviamente. Sì, perché no? Vabbè, qui parliamo di un... Questo registra 64 tracce. Ho capito. C'è, dipende che devi fare. Qui parliamo di un dispositivo... No, 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 questo qua è piccolino, questo che uso io, che usiamo noi per riprenderci. Però c'è la versione, anche quella, a 28 tracce, a 29 tracce, a 30 tracce. Ok, questo che vedi qui è diverso dal tuo, perché questo è fatto proprio per i contesti live in cui puoi gestire 16 tracce, 16 AUX e 64 canali in contemporanea con una certa velocità. Tra l'altro, questo ha tutti i fader motorizzati, non so se quello che hai fatto vedere tu c'è i fader motorizzati e non saprei dirti. Scusa, Furio, io definirei, diciamo, i vari canali come canali. Non ha senso di parlare di tracce, non l'hai detto, non mi ricordo chi l'ha detto. No, l'ho detto io, ma mi sono fatto trascinare canali, chiaramente. Allora, questa che vedete qui è la classica disposizione del mixer nell'ecosistema NVB. Allora, intanto cominciamo a dire che esistono principalmente due tipologie di ecosistemi di trasmissione dati per questo tipo di dispositivi e sono questo che è NVB e l'altro sistema che però non dialoga con questo che si chiama sistema Dante che è Behringer, Yamaha, eccetera, hanno un altro tipo di sistema. Questo sistema qui consente per il tramite di questi dispositivi qui che sono dispositivi diciamo di routing quindi sono della specie di splitter sostanzialmente che consente di far dialogare insieme questi sistemi. Quindi un computer collegato con un CAT6 un near mix che praticamente non è nient'altro che un singolo canale AUX dove tu puoi gestire tutti i canali che entrano dentro al sistema e quindi farti il tuo mix da solo tipicamente questo si mette vicino alla performe sul palco puoi avere il sistema stagebox loro hanno questo 16 canali puoi avere un sistema mix identico a questo che abbiamo visto qui però senza fader quindi solamente la parte diciamo fisica di ingresso senza tutti i controlli che possono avvenire esclusivamente dal computer ok quindi questo e questi sono la stessa cosa però questo qui non ha i controlli quindi puoi comandarlo o da un iPad come vedete qui oppure da un computer direttamente ok esiste un programma che richiama esattamente tutti i comandi del computer e può essere utilizzato o per precaricare un contesto live quindi tu ti fai un un soundcheck virtuale a casa o in studio dove prepari prima quindi sai che il canale 1 c'è il kick eccetera te lo prepari tutto completamente te lo metti sul computer quando vai nel contesto live lo colleghi e gli carichi il il tuo progetto e quindi lui lo riconosce e quindi questo è l'ecosistema completo devo dire non sgancia per esempio se uno si chiedesse questo iPad può funzionare anche tramite wifi basta che sia collegato il computer invece che a un box del genere direttamente a un sistema LAN wifi e poi far camminare tutto quanto attraverso il wifi l'unica differenza è che questo sistema con iPad o con iPhone è un sistema che può avere una leggera latenza se cammina tramite wifi rispetto a queste altre che invece camminano su cat 6 poi l'altra differenza è che l'iPad le diciamo tutte quante se ne ce le ricordiamo l'iPad comanda tutto cioè puoi scegliere di comandare il front of house e ogni singolo aux quindi ogni singolo comando del mixer mentre invece dall'iPhone puoi comandare solamente gli aux cioè tu puoi avere il privilegio solamente di ogni singolo aux quindi uno delle 16 aux puoi comandarlo il resto il front of house no considerate che comandare un front of house con un iPhone sarebbe comunque molto difficile perché dovresti avere tutti i canali davanti all'iPhone quindi è piuttosto complicato allora andiamo avanti fin qua mi pare che è abbastanza facile qualcuno di voi forse avrà già una idea salutiamo per Angelo che dici? Ambroselli è arrivato oh Ambroselli Ambroselli ha appena finito di fare lezione dalle 6 alle 9 e un quarto stavo aspettando la pizia guardate Rigidoni che sembra morto guarda là sei serio fermo fermo non sei capito è frizzato o se sei schiattato no sono molto interessato ok allora andiamo avanti quindi Pierangelo abbiamo definito un po' l'ecosistema per chi è entrato adesso dell'AVB ok quindi abbiamo definito un po' la questione andiamo un po' avanti qui la questione dell'accensione e i father e tutto il resto stavo pure anticipando Pierangelo che noi faremo una seconda lezione dove faremo proprio la pratica faremo vedere praticamente come funziona quindi oggi noi ci concentriamo come dovremmo fare in ogni occasione in cui abbiamo un dispositivo audio a vedere il manuale che di solito invece si butta e si comincia al si comincia direttamente a lavorare senza cioè facendo le proprie pratiche no? non si legge mai il manuale allora intanto cominciamo a dire questo tipo di mixer funziona come tutti gli altri selezionando il canale ok? quindi quando seleziono il canale tutto il pacchetto questo pacchetto qui che abbiamo tutta questa parte centrale qui selezionando il canale quindi selezioni il canale tutta questa parte centrale diventa il controllo di questo canale questo vale per tutti sostanzialmente per tutti i mixer digitali questo è un grosso vantaggio perché tu dovresti avere in alternativa una channel strip enorme come era nei mixer analogici per ogni singolo canale e per ogni singolo canale saresti tu andare a creare una cosa enorme considerate che un equivalente di questo sistema qui in versione analogica prenderebbe un salone gigantesco sostanzialmente perché dovresti avere per ognuno quindi noi la prima cosa che andiamo a fare andiamo a selezionare un canale quindi canale 1 andando a selezionare il canale qui ti dici accendi eccetera questo get in start e procedura vediamo qui ti fa apparentemente l'aspettacolo un attimo questo va a tutte quante ok andando a selezionare il canale la prima cosa che ti vedi che ti si accende tutto quanto quindi la prima cosa da fare è dirgli su quel canale che tipo di ingresso noi andiamo ma se questi hanno fatto una cosa proprio bruttissima da vedere ok ecco qua è un po' meglio forse che c'è che sto troppo zoomato non riesco a vederlo bene ecco perfetto quindi la prima cosa che facciamo select andiamo a selezionare il canale ok si apre si apre subito tutto quello che vediamo in questo momento una volta selezionare il canale è riferibile a quel canale lì come dicevamo prima quindi la prima cosa da fare subito è andare a verificare qual è l'ingresso di questo stesso canale ok questa è la prima cosa quindi noi gli ingressi che abbiamo sono di quattro tipologie il primo ingresso è analogico quando noi fisicamente abbiamo collegato un audio a uno degli ingressi che stanno dietro dietro ci sono ingressi combo per ogni canale quindi XLR o linea può essere un ingresso USB ingresso USB quando prende l'audio dal computer per esempio quindi per esempio l'ingresso USB può essere l'ingresso quando tu prendi l'audio dal computer left e right di un computer collegato oppure se tramite Cubase mandiamo le mandate nei diversi canali digitali all'interno del mixer e quindi gli dobbiamo dire USB network se lui prende l'audio dal network come abbiamo visto prima e c'è un routing a parte da fare come vedremo più avanti oppure se prende l'audio da SD card questo perché perché potrebbe darsi il caso che una parte di ingressi avvengano attraverso l'SD una parte dell'USB cioè ognuno dei canali è separato dall'altro quindi ognuno può avere un ingresso diverso a secondo delle situazioni ok poi qui a fianco mic line abbiamo il classico la phantom ok poi abbiamo l'assegnazione left and right o mono al centro quindi questo praticamente gli devi dire che tipo di configurazione è questo canale questo link invece linka i canali tra di loro solamente in maniera dispari cioè l'uno col due il due col tre l'uno col due il tre con il quattro e via dicendo questo è tipico per questo tipo di mixer quindi come fa selezioni un canale ovviamente di selezionare un canale dispari per esempio il tre poi schiacci link e lui lo linka immediatamente al quattro e mi faceva notare Pierangelo Ambroselli che esistono dei mixer professionali eh Pierangelo che invece possono fare questo link anche in bancate diverse dei canali è vero Pier anche linkare l'uno col venti per esempio l'uno col venti qui non c'è è inutile provarci perché questo non lo può fare quindi l'uno col due e via dicendo ok quindi questo è importante eh se selezionate il pari non ve lo fa fare poi qui a fianco ci sono eh può caricare dei preset che puoi aver eh già lo vediamo sullo schermo più avanti precaricato all'interno del dello stesso mixer in altre situazioni e quindi puoi avere dei preset per quel singolo canale oppure puoi aver precaricato nel nel diciamo game staging virtuale te lo puoi essere preparato prima da studio quindi tu arrivi già col progetto di questa sessione e lo carichi e lui te lo fa vedere poi qui c'è il livello del canale ovviamente qui a destra ti lascia sempre a vista e questo è fissa sta schermata qui ti lascia sempre a vista eh il livello di gate e del compressore quando entrano quindi ti fa vedere se sta intervenendo se sta intervenendo e di quanto sta intervenendo questa parte qua sopra invece è la parte che riguarda alcuni parametri del del canale che sono parametri richiamabili da qua praticamente se io allora se io non tocco nulla e lo lascio con i processori on questi rimangono così gain pan gate e tutto il resto ok quindi questi li sappiamo questi sono gain e via dicendo se invece io utilizzo questi pulsanti qui tutti questi canali sono riferiti al pulsante che è stato attivato per esempio se io attivo l'equalizzatore tutti questi parametri qui riguardano l'equalizzatore ok stessa cosa che è possibile vedere nel pannello che sta a fianco come anche in altri contesti eh di mixer come questo eh è possibile vedere questo tipo di di intervento fisico disegnato sul pannello che andiamo a vedere più avanti che sta a fianco e altre cose vabbè l'equalizzatore abbiamo detto il compressore il gate questo è facilissimo poi aux send questo praticamente è il pulsante con cui tu decidi cioè quando schiacci aux send e decidi quanto di questo canale mandare alle varie aux quindi schiacciando quello sulla schermata a fianco ti compaiono i 16 aux e tu decidi quanto di questo canale mandare agli aux ok poi lui li chiama Fat Channel Plugins ti dice pure che esistono anche dei plugin esterni che possono essere aggiunti a questi integrati nel nel sistema poi andiamo a vedere qua sopra mi fa scatta pagina a pagina ecco eh Furio scusami una domanda ma riguardo al mixer no se uno lo vuole configurare con Cubase c'è sempre il sistema del Mackey Control esatto allora se lo vuoi configurare con Cubase devi farlo come se fossero noi ci arriviamo più avanti ci arriviamo in realtà lo anticipo esiste il pulsante Do da sì praticamente trasforma il mixer in un controller e lo trasforma come se fossero 4 Mackey Control ok 4 Mackey Control diciamo che se tu setti questi 4 Mackey Control e li metti nella posizione corretta dentro Cubase c'è pure una demo su YouTube di questo sono andato a cercare sulla pagina su di SACAT e mi ho fatto proprio vedere questa cosa te le riconosce nei parametri principali subito e sono ok e sono play, stop rec e i father i panning e questo te le riconosce immediatamente gli altri devi programmarli uno ad uno perché non corrispondono viceversa viceversa è programmato in maniera perfettamente corrispondente già programmato per il software Studio One ovviamente perché preso non si giocano in casa e anche per il software Pro Tools e Logic invece nel Cubase va settato nelle periferiche del Cubase giusto? se tu lo utilizzi per i comandi principali per cui si utilizza un controller e sono tutti i comandi di trasporto i panning e i father non devi fare niente perché quello lo assegni immediatamente con il Mackey Control e lo riconosce subito se tu vuoi cominciare a dargli tutti i parametri di controllo dell'equalizzatore di controllo del compressore e altre cose di questo genere lo devi fare con la pazienza programmando i singoli canali perché altrimenti ti fa fare a caso cioè se tu muovi una cosa che corrisponderebbe alla modifica del taglio dei bassi faccio un esempio tu lo muovi e quello muove una cosa qualsiasi che non c'entra niente ok? si lo capito non è programmato solo per Cubase perché Logic Pro Tools e Studio One sì io credo che ci sia qualche cosa siccome si dice che Studio One sia molto simile a Cubase secondo me l'hanno fatto apposta perché non è programmato solo per lui quindi e gli altri è perfettamente guarda si sono cazzati si sono cazzati sì infatti erano gli ex di Nuendo esatto esatto guarda con i Federport però il supporto a Cubase ce l'hanno e migliora sempre ogni firmware però non è esiste loro dicono non è supportato Cubase in realtà non è vero perché come Maggie lo riconosce perfettamente però devi fare questa programmazione oh attenzione vogliamo spezzare la lancia a vantaggio del della Steinberg questo tipo di utilizzo come controller in confronto a un controller Steinberg sembra un giocattolo cioè allora se io lo paragono al nuage ti viene da ridere ok cioè non devi pensare a una cosa altamente professionale qui stiamo parlando di un mixer live che provvisoriamente è prestato all'utilizzo dei controller mi segui il ragionamento cioè io quel mixer gli voglio bene perché fa tanta cosa e quello che è costato è una cosa più favolosa però insomma come controller insomma dipende non è così preciso insomma anche il mixer motorizzato a livello di convertitori com'è questo mixer? guarda c'è un max input level che mi pare che sia non so se quant'era Pier? mi pare 14 se lo diamo a vedere più 12 più 12 più 12 quindi cioè fai conto una scheda UR824 siamo più 22 quindi dinamica molto scarsa non è fatto cioè allora fa anche questo fa da controller fa da scheda audio tutto bello ma non è fatto per quello è fatto per lavorare live in maniera semiprofessionale ok? questo è il target va bene? quindi flex mixes e praticamente tu puoi fare un un bus di flex mix sarebbero scusa posso di una cosa ecco 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 prima che fattata prima che vai avanti no ho finito alla pizza allora il problema dei mixer digitali molto spesso è proprio la somma digitale ecco diciamo che più si caliamo diciamo così il budget più andiamo su cose di level e quello significa che più canali mettiamo insomma ad un mixer digitale più problemi avremo poi sulla somma cioè su quello che è diciamo così l'uscita finale left and right e anche in questo in questo genere di mixer qua quindi il presonus è comunque un ottimo mixer quindi che ne so fino a 10 canali 15 canali li gestisce molto bene ma quando andate ad avere più canali quindi 30 32 canali e teoricamente mi sembra che lui può arrivare fino a 64 canali non mi sbaglio collegando insieme in rete diversi altri quindi avendo un headroom su ogni singolo canale di solo 8 decibel quello fa sì che l'accumulo quindi la somma totale di tutti i canali diventi diciamo meno gestibile quindi inizia a suonare peggio rispetto magari a mix analogico che ha evidentemente una headroom elevatissima quindi anche da quello dovete dovete capire la bontà di un buon mixer digitale infatti ecco questo che dici tu vale un po' in genere per tutti i mixer che diciamo è un discorso centrale quindi il concetto di andare a vedere la headroom eccetera cioè capire qual è l'utilizzo per cui è stato realizzato è importante cioè non basta dire quello che se lo collego con l'USB è una scheda audio quindi che cavolo mi compro una scheda c'è una scheda audio che c'hai tu quanti canali c'hai tu preamplificati nella tua scheda audio 16 16 canali preamplificati e una scheda 6.000 euro 7.000 euro dice cavolo che cretinata mi compro quest'altro chiaramente in mezzo c'è qualcosa che c'è una differenza ecco questo è normale e scatai per Angelo che mi ha sfuggito lui ha un Antilop Goliath HD che ha 16 preamplificatori ma in realtà può convertire mi pare pure quella non so 60 canali una cosa del genere è vero? non ti sentiamo Piero? scusa 64 in e 64 out capito cioè questo è con 16 preamplificatori chiaramente lo fa con una headroom è pazzesca rispetto a questo mixer perché è fatto certamente se ti presenti a fare un live con l'Antilop Goliath sei matto perché non è fatta per quello quindi ognuno nel suo ambiente nel suo ecosistema ti presenti con la valigia con la scheda audio diceva che c'è una grande qualità ma quelli stanno lì scatenati trovi in januario che c'è il metal sta lì scatenato gli frega sto cavolo della scheda si parte un feedback addio si parte un feedback sicuramente parte i flex mix sono praticamente gli aux e vengono gestiti come vedremo più avanti in maniera molto semplice digital patching questo riesce a fare quello che si fa con un sistema analogico tramite i collegamenti tipo centralino con le patch bay questo ovviamente riesce a farlo in maniera digitale quindi riesce a fare questa è una cosa che molti mixer diciamo così di medio livello non hanno invece il presonus ce l'ha già un board ed è una cosa fantastica perché lo puoi fare direttamente sul mixer per esempio senza passare per un computer o per un software mi sembra che il presonus già ce l'ha il mixer direttamente direttamente sul mixer puoi anche utilizzare come diciamo prima il software collegato e fartelo sul computer trasferirlo poi successivamente questo puoi farlo addirittura puoi caricare sulla schedina SD se non ti vuoi portare il computer lui caricandolo capisce il patching di questo progetto quindi puoi salvare progetto scene preset e cose varie andiamo un po' avanti questo è come si presenta mi sono dovuto mettere la tavoletta della ecco vedi quella tavoletta è andato meglio qui no sembrava ok questo è come si presenta dietro allora qualcuno prende in giro sta cosa no la questione anacronistica degli ingressi fisici di un mixer come questo ok perché questo va a 32 ingressi fisici combo allora andiamo a vedere un po' e 16 mix in uscita andiamo un po' a vedere qualcuno magari per qualcuno di voi può sembrare una cosa scontata però rivederlo un attimo nel particolare può essere comodo andiamo un po' a vedere come funziona allora che c'è qui intanto vediamoci delle cose più semplici l'USB collega al computer il mixer quindi semplicemente trasferirci tutti i dati in via digitale tramite un collegamento USB ok intanto cominciamo a dire l'USB è scontato anche questo però li diciamolo non può avere una lunghezza infinita perché l'USB superato un paio di metri un metro due metri ti perdi tutto il segnale quindi qui è previsto che un computer sia attaccato praticamente se non ci stanno in mezzo convertitori che trasmettono il segnale più lontano quindi un USB qui c'è il control il control consente di gestire diciamo da un altro computer aspetta questo è il control non ho scritto questa non ho cambiato il nome questo control sarebbe l'immissione in rete del sistema cioè tu da qui praticamente metti in rete il sistema questo è utile se tu devi collegarci altri sistemi tramite wifi come un ipad un altro computer e gestire attraverso questa rete il controllo del mixer quindi muovere i fader dare i comandi di qualsiasi tipo e ci metti il router direttamente sostanzialmente ci devi collegare un router cioè devi mettere un router e questo qui o tramite wifi o tramite rete se ne va in giro agli altri qualcuno se sbaglia c'è capitato con Marco che non funzionava non funzionava alla fine l'aveva messo sull'audio network che ha lo stesso attacco perché è identico solo che questo qui trasporta l'audio fisicamente cioè trasporta l'audio attraverso il network quindi puoi mettere in rete l'audio deve essere un cut 6 giusto? deve essere un cut 6 allora in realtà gira pure con il cut 5 gira pure con il cut 5 però non ti garantisce sopra certe distanze questo si può dire ah un'altra cosa che è importante provata e riprovata può essere collegato come interfaccia invece di utilizzare usb puoi caricare l'audio network direttamente al computer o al mac e lo puoi fare per esempio con la thunderbolt ok? però se non utilizzi almeno sul mac io l'ho testato sul mac se non utilizzi l'adattatore cat 6 thunderbolt originale apple non passa il segnale cioè non so cosa che è tremenda te l'ha provato pie? allora questo no però più o meno è lo stesso funzionamento del dante e col dante tu lo rilevi come interfaccia audio diciamo tramite un software e comunque entri cat 6 direttamente sul computer esatto quindi entri direttamente cat 6 però se il computer non ha perché alcuni computer ormai non hanno più l'ingresso diciamo di lan a quel punto in quel caso lì l'adattatore deve essere un adattatore originale quindi se non vi funziona e il motivo è che non è originale apple se devi entrare in thunderbolt e roba di questo genere ovviamente non funziona con l'adattatore USB poi ASout questo io senzioramente lo sai non mi ricordo adesso tu Biarangio te lo ricorderai senz'altro questo ASout che cos'è quello è un'uscita digitale che si collega su XLR quindi ASB userebbe sì perfetto poi cominciamo con tutti quanti gli ingressi allora qui avviamo i 32 ingressi combo li vedete qua tutti quanti in fila combo significa che funzionano sia in XLR sia in linea ok di questi ad alta impedenza mi pare che siano solamente i primi due quindi se uno volesse modificare e inserire che ne so una chitarra direttamente per fare un qualsiasi tipo di esercizio lo puoi fare solamente su alcuni e non su tutti quindi devi andare a vedere il tipo di impedenza come da libretto lo vediamo più avanti poi qui c'è left and right e va bene qui c'è un'uscita mono centrale che praticamente prende cioè sostanzialmente le somma e fa l'uscita mono che può essere utile per tanti scopi di qualsiasi tipo poi adesso qua non si vede ma vicino qui di solito c'è un pomello che regola il generale dell'uscita left and right quindi tu praticamente puoi limitare l'uscita left and right quindi pur mantenendo a zero il father master faccio un esempio qua dietro lo puoi limitare con un pomellino un pomellino paraculo dei locali che qui evidentemente te lo abbassano e tu per quanto alzi quello lì non succede niente e queste sono le 16 uscite adesso considerate che adesso noi diamo per scontato che con un prezzo simile sotto i 3000 euro ti va a prendere una cosa del genere con 16 AUX una volta pochissimi anni fa un mixer digitale con 16 con 16 AUX poteva costare cifre impressionanti eh Piero eh sì prima dell'avvento dell'X32 quello che c'aveva più uscite e costava poco era lo 01V96 che c'aveva 4 uscite se non sbaglio 4 AUX e costava cifre spropositate anche lì sì 2000 euro ma 2005 tipo però non ha niente a che vedere con Presonus di oggi o con altro mixer di oggi perfetto poi abbiamo qui alcuni comandi sono il monitor out se devi utilizzarlo con le casse davanti a te e poi qui ci sta l'AUX input puoi entrare con l'AUX input e il tape in e il tape out quindi RCA queste qui sono vari controlli RCA infatti qui sotto lo dice stringiamo un po' 32 combo quindi 32 per amplificatori poi RCA insomma quello che abbiamo detto adesso c'è anche una talkback o un talkback come si dice che è questo qua questo qui è il talkback tra l'altro il talkback è abbastanza abbastanza regolabile perché puoi decidere di parlare con qualsiasi di questi AUX separatamente quindi puoi decidere dove deve andare con un routing abbastanza semplice come vedremo più avanti poi abbiamo già te ne sei andata alla pagina dopo aspetta ecco spascati ecco qua vabbè questi sono i modelli 24 e 16 sostanzialmente fanno le stesse cose e sono tutti interfacciabili tra loro ok qui ti fa vedere i particolari che abbiamo detto i microfoni la Phantom attenzione che quando stacchi il microfono devi staccare i nostri allievi tecnici del suono ricordiamoci quando staccate un microfono a cui è collegato la Phantom si può creare l'arco elettrico e quindi può danneggiarsi la membrana perché può ricevere uno shock elettrico quindi bisogna staccare la Phantom prima di staccare e qui ti sta dicendo questo questi sono tutti i dettagli e questo è che ha fatto carino vedi tutti i vari dettagli delle cose che abbiamo detto prima mi sembra che su questo non c'è niente da dire poi c'è un ingresso lampada poi questa è la schedina SD HC che può prendere ecco vedete qui massimo up to 32 giga io questo mi sono impazzito perché pensando di fare lo scienziato avevo comprato tutte le schedine da 64 perché tipicamente il fonico legge il manuale di istruzioni dopo che ci ha sbattuto la testa andando subito con le mani lì non è che te lo leggi prima e quindi poi ho scoperto che è 32 lo sappiamo già subito sotto c'è un ingresso cuffia anche quell'ingresso cuffia lì non è un ingresso cuffia che prende solamente il generale può prendere qualsiasi cosa quindi è totalmente routabile e poi fargli ascoltare quello che vuoi quindi può ascoltare un AUX un singolo canale quello che vuoi tu questo è un po' invece una simulazione di ecosistema di ecosistema di questo mixer allora vedete qui classico la cassa numero uno pure messa abbastanza con un senso quindi vari strumenti di ingresso qui ti fa vedere il basso e la chitarra vedete che entrano con la DI quindi vengono trasformati in segnale microfonico segnale microfonico qui c'è la tastiera ecco questo per esempio questo qui vediamolo allora questo qui allora qui la tastiera viene collegata qui backup vocal fa un po' vedere un po' di cose poi left and right sarebbe il main front of house speaker eccolo qua front of house speaker poi una cosa ecco una cosa importante che dobbiamo vedere gli AUX non l'abbiamo detto lo diciamo adesso vedete qui floor widgets sono tutte le casse spia che stanno qua drum monitor buver e via dicendo però questi AUX qui possono essere anche routati per dare degli ascolti supplementari in sala e su ogni singolo AUX può essere deciso un ritardo il ritardo per chi non sapesse a che serve su questo tipo di dispositivi e ci dovrebbe essere una figura più avanti la vediamo più avanti serve per evitare che al singolo ascoltatore arrivi il segnale ritardato dovuto al fatto che riceve il suono da diversi dispositivi di fronte a lui poste a distanze elevate facciamo un classico esempio per chi non conosce Roma siamo su una piazza gigantesca una piazza lunga 200 metri e abbiamo il pubblico che sta a 180 200 metri davanti a lui l'ascoltatore vedrà le casse che stanno a destra a sinistra del palco quelle principali poi siccome il fonico non può alzare troppo il volume perché alzando troppo il volume delle casse che stanno davanti arriverebbe troppo forte il volume a chi sta davanti e troppo poco a quelli che stanno dietro quindi sostanzialmente si ripete il segnale acustico in diversi diciamo altoparlanti posti a una distanza ragionevole per evitare che arrivi troppo forte a chi gli sta vicino e troppo piano a chi sta più lontano con la conseguenza che l'ascoltatore davanti a sé vedrà queste questi altoparlanti posti a distanze tra loro quando il suono emette un segnale se non ci fosse un ritardatore negli altoparlanti che stanno avanti che succederebbe succederebbe che chi sta a una distanza dal palco riceverebbe due segnali il primo segnale che è quello delle casse che a lui stanno più vicino subito dopo un altro segnale delle casse che stanno verso il palco e voi ve ne accorgete avete capito sto passaggio e ve ne accorgete le feste del paese quando arriva il fonico che è amico dell'assessore che sta cosa non gli ha spiegato mai nessuno però lui siccome sta al paese è l'amico dell'assessore è un scienziato e quindi tipicamente il rullante che mi manda fuori da testa o la cassa senti senti questa cosa perché come noi sappiamo la velocità del suono è 340 metri al secondo in una temperatura diciamo circa 340-350 metri al secondo che varia con la temperatura l'umidità e la roba varia il che significa che se io sto a 150 metri di distanza la differenza è mezzo secondo se io sto a 70 metri che non è inverosimile in una piazza normale tu c'è una ripese tu c'è un quarto di secondo ed è tantissimo cioè si percepisce tu diventi pazzo e rosichi le tasse mie buttate con l'amico dell'assessore ti incazzi 2,9 metri al secondo esatto e tu non riesci non riesci a goderti lo spettacolo perché pensi ma guarda che hanno pagato questo che è cretino 2,9 millisecondi al metro millisecondi al metro sostanzialmente su una piazza di circa 70 metri tu c'hai un quarto di secondo ma perché a lui gli hanno detto di fare la linea di delay ma pensava che era il delay era la ripetizione del rullante ha visto come si sente bene il delay naturale del rullante è questo qua e quindi sul display quando noi nelle impostazioni di questo AUX possiamo dire con che ritardo deve arrivare il suono quindi noi faremo in modo che nelle nelle casse più lontane dal palco ci sia ritardo rispetto alle casse che stanno davanti e si fa per il tramite di un piccolo calcolo questo che abbiamo visto adesso quindi per ogni metro dovete calcolare 340 metri al secondo te lo fai il calcolo e te lo posizioni esistono dei software dei computer non so se l'ultima versione di questo mixer riesce a farlo esistono dei mixer che riescano a rilevare un segnale guida e quindi riescono a fare questa operazione senza calcolo perché lo riescano a fare internamente sono dei mixer chiaramente più professionali di questo immagino quindi mentre il computer gli si dice trova la distanza e lui ritarda automaticamente perché mandando un segnale a tutti i sistemi di casse riesce a capire esattamente a che distanza sta questa questa cassa ed applicare automaticamente un ritardo ok cioè manda il segnale anche col mixer più bello del mondo si fa sempre con altri software tipo smart cose varie oppure col metro laser a volte ecco il metro laser che misuri la distanza da altoparlante ad altoparlante ecco tu Pierangio parliamo un po' della tua esperienza di fondo tu avevi fatto migliaia di eventi live sin da quando eri ragazza adesso anche in contesti non so quanti però ho fatti abbastanza migliaia ne hai fatti te conosco io già qualche centinaio allora anche in contesti professionali di stadio c'era Claudio ci faceva vedere che ci faceva vedere Claudio il dispositivo laser laser tu che allora Pierangio che c'è questa esperienza che tipo di metodo utilizzi per questi contesti qua facciamo un esempio facciamo un esempio allo stadio ti è capitato lo stadio olimpico tu in quel contesto lì che facevi allora in quel caso ovviamente sempre dalla posizione del fonico front of house io che cosa facevo mi carico un programma io uso Smart Smart V8 adesso la versione che è un programma per calibrazione e allineamento dei sistemi sostanzialmente che cosa vai a fare metti un microfono di misurazione scusa vi erano sm a a a a giusto Smart si si metti un microfono di misurazione nella posizione del fonico e lanci un segnale che può essere un rumore rosa che può essere uno sweep su ogni altoparlante quindi sia il main sia le varie line di delay che cosa succede che una volta avuto il riferimento ad esempio il main che ti dice guarda questo arriva con x millisecondi di ritardo gli fai calcolare anche gli altoparlanti e ti dice quanto scarto in millisecondi c'è tra un altoparlante e l'altro in modo tale che tu sui mixer puoi andare a inserire direttamente i millisecondi oppure addirittura in alcuni mixer inserisci metri che in automatico poi ti danno i millisecondi quello forse è meglio addirittura più intuitivo vabbè senza fare il caso ti risparmiamo una moltiplicazione poi a volte si fa questa cosa direttamente nel mix a volte si fa nei processori invece dei sistemi quindi un sistema line array c'ha il suo processore dove vai a mettere i vari ritardi in ogni caso sapere questo passaggio qui è importantissimo almeno averlo sentito una volta perché uno si pone il problema sennò rimani sì ma a parte lo stadio olimpico ma succede anche nei teatri da 200 posti perché pensate a un musical in un teatro da 200 posti dove magari la musica è anche abbastanza sostenuta se devi fare in modo di far ascoltare a tutta la platea non puoi pretenderlo di farlo solo magari con il main quindi l'impianto principale perché se no le prime file le ammazzi e per far sentire bene a quelli dietro devi alzare tantissimo il volume quindi la regola è sempre tanti speaker e volumi bassi è la cosa migliore bene altre parti dell'ecosistema sono come abbiamo detto questa rete entra nel router vedete e ci si possono collegare diversi dispositivi quando avete i fonici gli artisti bravi che non ti fanno impazzire puoi anche arrivare a pensare di fargli fare il mix da soli quindi scaricando il programmino si fanno il mix da soli capita raramente perché di solito vai uno tra lo stress della cosa dell'esecuzione un po' l'incapacità è sempre meglio che glielo fai te beh se stanno in cuffia possono fare quello che vogliono ma si ammazzassero lì però dopo sono normale sta facendo l'esempio di te quando vai con con Noemi che ti metti le sue cuffie nelle orecchie per capire esattamente com'è la situazione e segui la cosa quindi qualche capitato pure che ho dovuto fare il sound check a posto suo con la mia voce è uguale poi alla mia fine quindi questo questa è la parte qui ti fa vedere wireless è indifferente che sia wireless o non sia wireless è totalmente indifferente e qui ti fa vedere anche che c'è la possibilità di utilizzare vedete qui lo fa vedere un software nativo per fare quello che fa la schedina quando registra i canali come vedremo più avanti con Pierangelo faremo questo questo test questa prova pratica e si chiama Capture è il loro software considerate che sono software fatti per prendere l'audio e basta non è che fanno cose incredibili al massimo possono gestire la registrazione da post produrre con altri software non è che c'è una possibilità di essere come Cubase però lo te lo danno è un software leggerissimo perché registra e basta quindi facile da far da far girare e qui mi pare che più o meno sia la stessa cosa qui ti fa tutti i vari esempi di DVD player non qui per esempio DVD player ci puoi collegare il DVD esterno ti fa vedere un po' di cose va bene questo noi quando andiamo a fare qualche show con Pierangelo di questi della nostra scuola due degli AUX li utilizziamo per mandare l'audio alla sezione regia streaming video quindi due di questi AUX qui noi li utilizziamo oppure utilizziamo anche il monitor però più facilmente l'audio di questi AUX è per mandarlo alla interfaccia audio che va alla telecamera e viene utilizzata per fare lo streaming di Facebook funzioni principali ci sta allora su ogni singolo canale c'è un piccolo display dove voi vedete il nome il numero e il panning destra e sinistra ok questo può essere la cosa basinare il pulsante di selezione ecco ti fa vedere proprio in sequenza il pulsante di selezione il solo e il mute allora solo e mute allora il select è semplice e questo schermettino qui è semplice il mute è anche semplicissimo il solo non va inteso come solo del nella questione del live perché il solo infatti lui lo dice will solo this button will solo its channel to the main outputs or to the monitor outputs depending on whether AFL o PFL quindi per fare il listing on solo in place is selected in the solo edit menu allora questo infatti va inteso come il solo di Cubase insomma ecco va inteso come il solo di Cubase non va inteso come il solo cioè il PFL non va inteso perché tu con il solo in cuffia sostanzialmente tipicamente a questo serve cioè serve al fonico sul palco per sentire quel canale solo lui ma non è che va in solo sul main quindi questo è importante saperlo perché alcune volte ho visto persone che stanno lì che si è rotto il mixer invece non era rotto il mixer era semplicemente che non avevano letto il manuale oppure si usa sia per quello quindi che ne so concerto in corso voglio sentire in cuffia sul mio monitor del fonico un determinato strumento allora in quel caso mettendo il solo io nel mio monitor o nella mia cuffia sento per esempio solo la cassa ok e magari riesci ad aggiustare l'equalizzazione della cassa per esempio oppure in caso di gain staging il solo molto spesso è un prefater listen quindi ti mette praticamente in visualizzazione sul meter l'ingresso del canale quindi tu puoi andare a ricercare il valore ottimale di linea 1,23 volt bla 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 ok tu di solito quando vai a fare live e ti serve quindi una cuffia per verificare questo nel contesto rumoroso che tipo di cuffie utilizzi totalmente chiusa con il live chiusissima di solito uso la M50 dell'audiotecnica ma pure la Bear Dynamic 770 deve essere chiusa molto molto isolante va bene cioè dovete pensare anche che a volte in alcuni concerti si arriva pure alle pressioni sonore che stanno tra i 100 110 di BSPL che è tantissimo quindi senza una buona cuffia non avreste un riferimento anche solo per ascoltare determinate cose esistono anche oh poi c'è questa questione no? io ho visto spesso i fonici live togliersi la cuffia per fare il PFL e poi mettersi i tappetti per ridurre comunque il rumore complessivo per evitare di esporsi troppo tempo a queste pressioni sonore che possono causare un una sordità permanente quindi questo anche va detto sempre e c'è scritto all'inizio del manuale prendiamolo come è valido poi input abbiamo detto aux input l'abbiamo detto dca group oh qui dca group dove sei qua dca group qui adesso noi dobbiamo fare una parentesi perché uno spesso su stovate dca group fa finta di non leggerlo passa avanti perché non vuole approfondire che cosa significa questo dca group noi però ci abbiamo qui con noi per angelo che l'ha ripetuto in circa 200 corsi ne approfittiamo e gli facciamo spiegare a lui che cavolo è dca group pure te ne stai approfittando ti sei presentato io so ospite e tu sei ospite gradito sei ospite gradito il dca va inteso come fosse un vca quindi voltage control amplify ed è sostanzialmente solo un controllo di volume di un gruppo di canali quindi io posso decidere di assegnare tutti i canali della batteria per esempio a un dca quindi a un unico fader e gestire tutta la batteria con un unico fader non è il gruppo di qbase attenzione per esempio ma il vca di qbase ad esempio quindi molto spesso nei dca o nei vca quindi alcuni mix li chiamo vca alcuni dca non si può fare processing cioè non è che io posso andare a mettere un compressore a tutta la batteria oppure un equalizzatore a tutta la batteria ma è solo controllo di volume poi ci stanno anche le possibilità ovviamente alcuni mix di fare dca con processing ma non sono più dca ma sono dei gruppi a tutti gli effetti certo i gruppi audio cosa che in questo mixer qui esiste esiste il sistema dei gruppi andiamo un po' avanti e qui ti fa vedere le varie assegnazioni e alla posizione 1 vedi allineamente userly layer screen will be display and touch display vabbè ti fa vedere a cosa corrisponde su questo schermettino qui quello che andiamo a vedere questo che fa? filter dice infatti questo sta dicendo le stesse cose che dici tu questa cosa del esistono i filtri eccetera vabbè e allora perché lo fai parlare scusa? no perché sta lì mi piaceva pare brutto dai poveraccio scherzando pure io lo so io pure capirai mi ce ne trovi a me io faccio lo show quando sono diventato Marzullo mi ci hai nominato Pierangelo poi oltretutto allora andiamo un po' avanti meno male che non ti hai nominato Mollica che è Mollica? in certo come che è Mollica? Mollica quel bersantissimo uomo veramente coraccio allora andiamo avanti questo è quello come dicevo prima la talkback edit screen è proprio questo qui quando andate a toccare talkback ok c'è proprio nella lista dei canali trovate un channel strip talkback quindi un canale talkback quando andate a selezionarlo vi si apre questa schermata e qui potete decidere dove in questa configurazione avete il livello di talkback che sarebbe il gain sta lì e poi avete il main e tutti gli aux quindi qui potete decidere dove mandare in questa configurazione come stiamo adesso lui ha zero preamplificazione sul canale non va al main ma va a tutti gli aux ai 32 aux ok di cui 16 suoi e altri 16 da prendere nell'ecosistema a lui collegato ok questo può essere comodo che ne so devo parlare solamente col fonico che sta al canale 1 e parlo solamente là oppure all'aux 1 ci collego un sistema di cuffie wireless lo metto all'assistente di palco e quindi io parlo se io seleziono aux 1 faccio un esempio parlo solo con l'assistente di palco in cuffia che mi sente questo può essere un utilizzo e qui sta dicendo tutta questa cosa qua poi questa è la sezione mix che adesso è un po' modificata rispetto al mix perché noi abbiamo solamente 1.16 invece qui ha duplicato e va a finire fino a 32 però il software il firmware è stato aggiornato quindi in realtà è identico a questo per quanto qualche canale c'ha qualche funzione qualche immagine differente questo è semplicissimo allora quando si preme il main mix tutti i father sono corrispondenti a quello che sta andando sul main quindi ogni azione che io faccio sul father nel momento in cui il main mix è attivato va a influire sul left and right del main invece quando io vado a premere il pulsante da 1 a 16 o 32 addirittura vado ad influire cioè mi cambia la configurazione dei father e quindi io muovendo quei father vado a modificare l'audio sulle singole casse spia dei canali principali facciamo un esempio schiaccio 1 ok tutti in quel momento tutti i father sono quanto volume vado di ogni singolo canale a quell'AUX classica 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 stessa stessa cosa per gli effetti qui sotto abbiamo questo mixer può avere predisposti complessivamente in contemporanea 4 effetti e quindi quando vado a toccare uno di questi tutti i father indicano quanto di quell'effetto mando a ogni singolo canale quindi se io metto questa funzione qui no il contrario è puro quanto canale mandi all'effetto quanto canale manda a quell'effetto quindi praticamente io se ho la voce alla traccia 10 io a quell'effetto la voce entra in quell'effetto per quanto io alzo il canale al canale 10 poi questi mixer motorizzati pure silenziosi devo dire vanno abbastanza bene vediamo un po' altre cose più avanti questo questa schermata qui indica praticamente cosa che tipo di che tipo di settaggio ha quell'AUX l'AUX può essere in prefader in prefader o postfader quindi praticamente quando sta in postfader tutto ciò che io faccio sul canale principale influisce anche sul canale dell'AUX quindi diciamo tipicamente io per esempio lascerei sempre in prefader per evitare che questo possa influire cioè per essere libero di fare quello che voglio sui singoli canali se io mettessi in postfader e togliessi sul canale principale tutto il volume su tutti gli AUX non arriverebbe su questo AUX non arriverebbe nessun segnale poi qui puoi decidere se avere del panning e se puoi mandargli il compressore il limiter cioè puoi fare diversi tipi di impostazioni su questo canale e qui in alto andiamo a vedere proprio quello che avevamo visto prima cioè il delay di questo canale quindi schiacciando il tasto AUX che abbiamo visto prima compare questa schermata prima cosa a vedere zero delay questo qui è il caso in cui non c'è bisogno che questo canale sia ritardato quindi per esempio una cassa spia e attenzione però perché a volte pure sulle spie si fanno dei ritardi soprattutto quando il palco è piccolo no? voi immaginatevi un batterista che ha la cassa su una pedana ok? e quindi sta a x metri dal dalla prima fila ipotizziamo ok? sta a 10 metri dalla prima fila poi molto spesso i batteristi per esempio hanno dei drum fill cosiddetti quindi hanno delle cassone enorme dei subwoofer enormi dietro le spalle che magari stanno 2-3 metri più in là rispetto alla cassa quindi anziché stare a 10 metri stanno a 13 metri ipotizziamo di distanza dalla prima fila anche in quel caso per esempio si può pensare in alcune cose di fare dei ritardi per esempio ritardare direttamente il suono della cassa ok? solo il microfono della cassa in alcuni casi oppure delle delle casse spia in base a come sono posizionate quindi a volte si fa pure quello ok quindi questo abbiamo visto qui infatti sta dicendo la stessa cosa e qui i vari settaggi abbiamo detto prima qui ho un'altra cosa importante quando andiamo a selezionare l'AUX il master diventa il master di quell'AUX lì quindi oltre a tutti i canali il master diventa il master dell'AUX quindi se noi selezioniamo tutto quanto e abbassiamo il master in quel caso abbassiamo completamente il volume nella cassa spia oppure nell'AUX collegato poi qui la parte edit ecco questa è una sezione dove c'è il monitoring edit qui tu puoi scacciando questo edit puoi decidere cosa ascoltare nei monitor e nei cuffie quindi puoi andare a selezionare che tipo di ascolto fai nelle cuffie è semplicissimo schiacci qui e ti dice monitor e cuffie nel display cosa vuoi sentire sempre touch screen certamente non è un touch screen da cellulare per quanto mi dicono questo nel Behringer wing il touch screen è molto simile al touch di un cellulare questi invece purtroppo i mixer digitali per quanto abbastanza sofisticati non dovete avere idea di un è vero ma tu come funziona il tuo touch screen sullo Yamaha allora io non so perché tutti i mixer digitali hanno problemi col touch screen non è non è come un cellulare o come un ipad non si sa capire l'unico touch screen vero bello che funziona come un ipad che ho incontrato su un mixer è su un mixer che costa 100.000 euro che è l'avid s6 ma pure quelli da 20.000 30.000 euro il touch screen non va bene non si capisce perché cioè come non facciano sviluppare una cosa del genere ma questa è una cosa non ho mai ci sono chi va meglio e chi va peggio però in alcuni è veramente difficoltoso questo è uno di questi devi stargli un po' dietro sostanzialmente oh qui ti fa vedere come è un problema di tecnologia guarda fondamentalmente però quando spendi 3000 facciai 3.100 100 euro quanto questi erano uno schermo eh no però se diciamo i diritti di costruzione c'è l'apple non è che gli va a vendere ah ecco devono essere imitati in qualche modo ecco quindi devono pure sviluppare qualcuno prima o poi ci arriverà però se vedi tre quarti delle cose di avid sono tutte per ipad perché non ci pensano proprio a farlo loro uno schermo di quel tipo c'hai l'ipad te lo compri lo metti sopra se c'entra poi perché muo esce un ipad diverso ogni giorno infatti questi mixer come dici tu hanno proprio diciamo l'incastro per l'ipad in alto fatto apposta quindi tu probabilmente hai pensato che tu lo puoi utilizzare qui ti fa vedere tra l'altro scusate io vorrei spezzare una lancia in favore di questo ipad perché la gente pensa che costi un sacco di soldi in realtà costa un sacco di soldi l'ultimo modello io con un ipad AIR 2 che adesso usato si trova a 150 200 euro queste cose le fai tutte e l'ipad più basso in commercio adesso costa mi fare 369 euro la metà di un telefonino di fascia media quindi non è un aggeggio non sono soldi buttati se poi per esempio col mio ipad ci controllo la RME da tutta la stanza perché poi mi muovo mi siedo la batteria eccetera già quello è metà del suo lavoro col software gratuito anzi no 5 euro di RME 5 euro si possono pure buttare su un investimento di 360 quindi e poi il lato musicale fine parentesi ok qua fa vedere invece il classico collegamento su cui si impazziscono i tecnici del suono di un processore esterno ti fa vedere come funziona e quindi praticamente c'è l'imp prende il da un mix entri dentro all'input e poi c'ha l'uscita questo è un processore stereofonico e c'ha l'ingresso aux input quindi fa vedere come funziona il collegamento t'agevola se non te lo ricordi da quando hai studiato te lo fa rivedere si molto spesso quel ritorno che viene dal processore esterno viene messo anziché su un aux input direttamente su due canali del mix panpottati left and right che è molto più meglio tu lo sai c'era lì è più facile bene poi andiamo avanti qua ah questo è il next task for next chiaramente per gestire tutti questi canali e quindi più di diversi canali perché voi dovete immaginare 32 canali più i canali effetto rivedete qui più i canali aux tape eccetera già solo con 32 dei canali fisici non ti basta una schermata completa c'è una bancata completa quindi questi pulsantini che stanno in alto nei mixer quasi tutti i mixer ce l'hanno in una situazione analoga servono a scorrere le bancate cioè quindi a cambiare pagina con la conseguenza e quando hai 32 quando l'apri c'hai 32 canali davanti a te scorrendo il next lui vanno avanti bisogna anche considerare quindi tu vedrai il 33esimo canale al canale 1 e via dicendo va anche considerato che spesso se utilizzate dei gruppi in questo mixer 32 e 8 per esempio gli ultimi 8 canali potrebbero essere dedicati a dei gruppi quindi in realtà da 32 fader iniziali ne avreste solamente 24 quindi questo next sarebbe ancora più utile in questo caso perché tu con 24 canali puoi far scorrere e vederti i 32 canali nei primi 24 fader avete capito com'è la questione? cioè sul lato destro hai i gruppi 8 quindi da 32 passi a 8 quei 24 li fai scorrere davanti a te ok? quindi potresti avere i 64 canali più gli AUX scusate più gli effetti FX e via dicendo in 24 canali da fare scorrere e questo next sta a significare proprio questo qui invece questa è la novità rispetto al mixer che abbiamo noi e questo infatti l'ho visto ho scaricato il film ma non avevo capito come funziona funziona così toccando gli AUX vai sull'AUX di riferimento tenendolo mantenuto vai sul canale multiplo del corrispondente quindi se 1 diventa 17 se 7 diventa 23 ed è per questo che vicino te l'hanno scritto quindi sui mixer che abbiamo noi che questo numeretto non c'è scritto te lo devi andare a scrivere da una parte se l'altro non te lo ricorderai mai poi andiamo avanti una domanda Furio negli AUX per le spie si può equalizzare dal mixer? c'è modo di equalizzare? sì sì tu probabilmente quando apri il canale dell'AUX corrispondente tu metti AUX ti si apre la bancata davanti a te poi ogni singolo canale è equalizzabile come se fosse un canale del main sempre a 4 bande praticamente no? beh dipende dal tipo di equalizzatore che c'è qui no no lui dice proprio di equalizzare l'AUX quindi l'uscita sì sì si fa in quel caso si fa in questa maniera tu selezioni l'AUX ok ti compare davanti a te la stessa bancata e c'è un main AUX sarebbe il main del canale generale quando selezioni quello tutto ciò che fai nel riquadri in alto è riferito al main di quell'AUX ho capito bene poi qui abbiamo qui dice sotto gruppi sul lato destro infatti c'è il pulsantino mix e fx e masters quindi le bancate di testa qui tu puoi selezionare lo vedremo meglio questo si vedrà meglio quando faremo un'esercitazione pratica lo vedremo un po' meglio si può selezionare sul lato destro se è un mix se è un effetto o se è un master quindi puoi selezionare da qua la bancata corrispondente qui ci sono dei sottogruppi quindi puoi assegnare a diversi sottogruppi il canale quindi inoltre selezionato ti dice a che sottogruppo deve andare a finire anche questo vedendolo pratico sarà un po' più semplice capirlo e qui ti fa vedere il classico sottogruppo per esempio che concerne l'utilizzo di una batteria come segue e poi andiamo un po' più avanti questo abbiamo già visto tutte quante queste cose crea una matrice abbiamo già visto anche questo l'abbiamo spiegata poi dopo in pratica la vedremo separatamente l'importante è che voi adesso capiate questo passaggio cioè i comandi a che cosa corrispondono poi vedremo dal vivo considerate che è importante questa parte perché questa qui uno si toglie un sacco di dubbi e poi andare a fare la parte pratica sarà più semplice allora qui arriviamo sul pan mode system poi abbiamo main mono base center ok questo mono center l'abbiamo visto questo vabbè ti fa vedere come si sposta il pan left right vabbè questo è abbastanza intuitivo si sono sbizzarriti ok beh questo qui diciamo queste sono altre cose che riguardano l'utilizzo di fat channel quindi compressore eccetera ecco questo ti fa vedere quella è la domanda che mi facevi tu questo ti dice questo schemino dove possono essere applicati gli effetti di questo mixer vedete per esempio qui facciamo il pan il pan può essere applicato sull'input di ogni singolo canale e nessun altro quindi non può essere applicato per esempio il pan su un effetto si legge così questo schema ok stessa cosa il gate tutti questi per esempio l'i-pass filter per esempio può essere invece applicato a un a un flex a un mix a un flex mix quindi a un aux un flex mix può essere applicato poi qua ti dice pure ti chiamano low cut low cut il vecchio dilemma no? si 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 i limiter il limiter può essere applicato qui per esempio sul canale di input di singolo canale sui flex mix e sul main ovviamente il limiter si può essere applicato quindi questo qui questo è uno schermino uno un'occhiata gliela butta per esempio il delay può essere applicato su tutto quanto diversamente da altri effetti il delay può essere applicato anche sul main mix per dire quindi questo è interessante e l'aux sense che abbiamo visto prima sull'aux sense tu puoi applicare le mandate puoi applicarle chiaramente sullo canale input sull'aux e sugli effetti ovviamente e questo è intuitivo però uno se lo vede e capisce poi questa è la comparazione AB per l'equalizzatore e l'effetto di dinamica serve per fare una comparazione di questi due effetti sul canale quindi praticamente ti consente di capire come funziona una differenza applicazione dell'equalizzazione del compressore su quel singolo canale quindi fa vedere com'è l'AB chiaramente con l'accortezza come diceva giustamente Pierangelo in una lezione abbastanza recente che l'essere umano non è in condizione di capire l'AB se glielo fai sentire a una distanza di tempo elevata quindi l'AB deve essere applicato subito AB se non ti rendi conto copy past questo qui può copiare canali e fare un copy incolla di canali su un altro canale e poi salvare un preset puoi salvare un intero progetto passandosi nella schermata a fianco facendo store e a quel punto lui può salvare quando fai store ti chiede come lo vuoi chiamare te lo salva in quella condizione e te lo tiene in memoria lo può tenere in memoria o lo può anche tenere all'interno della memoria diciamo mobile che è la cartina SD per richiamarlo fai recall e probabilmente te lo richiami scusa quante memoria c'ha questo mixer senza scheda cioè perché se io voglio memorizzare diverse scene queste non pesano niente queste scene c'è una scena sono comandi macchina che non pesano niente quindi non si abbia non ha una grossa cioè una scena adesso tu hai qui tutte le lucette e tutto quanto ma per il computer è una cosa che pesa nulla ma forse 99 o 199 non mi ricordo tanto così questo qui adesso qui non c'è scritto mi ha fatto questa domanda non mi sono mai posto il problema perché sono talmente tante 99 programmi o il peso di ogni singola scena ma io ho scene però se io intendevo ecco le scene tipo lo Yamaha o 01 ti dava 99 eh sì più o meno tutti così quindi sì ok tante voglio dire difficilmente uno più di 100 scene manco te le ricorderesti ok qui quando tu salvi la scena per esempio puoi anche fare la salvi e te la ritrovi invece quando fai copia e incolla da un canale a un altro canale adesso questa è la novità di questo ultimo firmware ti consente anche di fare un copia e incolla diciamo selezionando alcune parti quindi non devi per forza copiare tutto quindi tu quello che vai a selezionare lo copia in questo caso qui per esempio ti copia il colore perché chiaramente i colori sono assegnabili il tipo di canale e il pan copia e incolla cioè si può selezionare quello che vuoi copiare e incollare questo è questo è intuitivo è facilissimo qui puoi decidere il gain il pan eccetera ma nello schermetto te le trovi tutte quante queste applicazioni quindi sostanzialmente vedi a comandare quello che puoi fare anche nel touch screen quindi vai a comandare quei parametri là questo invece hold to lock questo blocca il canale allora questo qui praticamente se lo mantieni premuto ti blocca quel singolo canale per evitare che possa fare qualsiasi altro casino che fa e sbaglio scusa anche lo slider ti blocca? anche lo slider del mix ti blocca? guarda ti blocca solamente nel senso che magari il father no ti blocca solamente l'impostazione dovrebbe bloccare solamente l'impostazione del canale ok però leggiamocelo bene ma ci dovrebbe stare pure il lock proprio tutto il mix c'è anche il blocco generale è il lock sì allora termini il lock descontro spessi più che altro capita no nelle feste di piazza come dicevate c'è sempre qualcuno che ci vuole mettere le mani vabbè si ok io guarda per esempio con abitudine non te devi essere cioè non devi essere timido cioè devi creare una zona di sicurezza sì sì quello sì pure se ti arriva la bionda che ti dice voglio caricare il cellulare tu devi essere Ulisse con le sirene ti devi far legare sul traliccio e gli devi dire no io mi rifiuto tu fatti le mie sirene se sai che ti capita una cosa del genere ti compri a 15 euro una bella memory no una banca sì esatto molto meglio poi gli dici guarda Ulisse con le sirene gli dici dopo insomma vero Mirà con il numero di telefono stampato sopra a quel punto c'è più strano spengo il mixer va bene ma voi ci scherzate ma è capitato davvero in una conferenza a Milano che vi dico solo 7000 persone Fideuram banche cose del genere palco di 100 metri sì palco gigantesco led wall politici di tutto di più un tizio si è avvicinato al mixer da solo senza chiedere niente a nessuno sul mixer di palco aveva il caricatore difettoso quindi facevano contatto praticamente i cavetti l'ha attaccato a una ciabatta del mixer è saltato tutto l'albergo tutto il centro tutto capito questo ma è uno dello staff per un cortocircuito no no era uno del pubblico mattarello ma sai proprio era da ammazzare era da ammazzare ok un controllo messo a terra quello allora qui non entriamo nel merito del significato di questi tasti di questi fat channel perché non riguardano il mixer quindi gate e roba sono i classici comandi equalizzatore gate compressore questo non fa si presume che uno sappia cosa significhi tra l'altro questo mixer c'è una cosa bella sui compressori che potete utilizzare sia il compressore per esempio quello classico chirurgico suo sia c'ha le emulazioni dell'1176 e dell'LA2A come mi sembra c'ha pure l'emulazione del Pultec sull'equalizzatore che non tutti i mixer desta fascia di danno esatto questo Pultec due giorni di auli nel fattore ebbè quello questa è la classica schermata vedete qui questa è come si presenta la classica schermata sul display a fianco a tutti i comandi manuali che abbiamo visto che stanno sul lato sinistro quindi qui ti vedi i comandi vedi se è acceso o spento il il la phantom vedi il segnale digitale che abbiamo visto prima se è acceso e qui vedi la sorgente a quale sorgente è collegato perché tu potresti vedere il canale 5 collegato con la sorgente 1 perché abbiamo detto che il routing è totalmente flessibile vedi il panning se sta a destra a sinistra e la preamplificazione quindi il gain a quanto è alzato e qui considerate che ognuno di questi pomelli è abbastanza semplice di chiamare allora nel lato sinistro avete su ognuno di questi comandi il pomello la stessa cosa qua con la differenza qui c'è un solo pomellone centrale quando tocchi preamp quel pomellone corrisponde al preamp quindi quando tocchi preamp puoi alzarlo tocchi high bass filter girando l'unico pomellone muochi quello e via dicendo qui c'è sotto controllo tutto ovvero c'è il gate il compressore e il limiter questo mi sembra quelle cose dice che genere sono nate tutti i generi western e country no? i Bruce Brothers quindi qui c'è sotto controllo tutto gate compressor limite un buon equalizzatore 4 bande qua sopra poi qui sulla destra invece la cosa carina che potete vedere questo ce l'hanno un po' tutti un applauso alla citazione grazie si è carino qui sul lato destro potete vedere le 32 mandate agli AUX di questo canale quindi qui praticamente si alza il livello di questa banda in orizzontale e sta a significare che noi per esempio qui se io trovassi questa situazione significherebbe che non sto mandando il segnale di questo canale 1 a nessuno degli AUX collegati ok? quindi invece se vedessi qui giallo esce giallo qua da questa parte il canale 7 se sta a metà significa che sto mezzo volume mandando all'AUX 7 metà volume di questo canale ok? posso dire una cosa sulle AUX che forse non abbiamo detto che ok le AUX si possono utilizzare ovviamente per i monitor per i linear monitor per le linee di delay ma molto spesso le AUX vengono utilizzate anche per i sub quindi per i sub buber in quanto anche lì molto spesso bisogna dargli un ritardo bisogna dargli una fase diversa rispetto alle teste e poi dipende quante linee di sub hai e se hai tante AUX 16 cioè 16 già sono buone ma avere 32 AUX a disposizione si dica davvero puoi fare lo stadio olimpico per tutta la possibilità di di monitoraggio e di linee di delay e sub che puoi fare insomma ok poi qui sotto invece abbiamo gli effetti ah vedi anche gli effetti sono passati da 4 a 8 quindi hanno raddoppiato tutto anche gli effetti e quindi praticamente noi abbiamo la possibilità di vedere qui dentro quanto effetto c'è su questo canale oppure quanto canale è andato su quell'effetto lì e quindi praticamente se io qui ho un delay sull'effetto FX1 è un delay se lo vedo a metà vuol dire che questo canale è andato a metà su questo delay qui qui sotto noi abbiamo quindi in una schermata riuscite a vedere un po' tutto qui sotto invece abbiamo la funzione left e right quindi si accende questo mono centrale non puoi fare più niente va solamente al centro questi sono i comandi di questa schermata molto semplice per vedere cioè lo scopo chiaramente rispetto ad altri software che siamo abituati a vedere come Qubase per esempio è che tutto questo debba essere molto semplice perché tu richiamando il canale devi avere questa schermata davanti a te e in poco tempo capire subito cosa sta succedendo cioè considerate qui lo show must go quindi è roba live questa qui poi vabbè qui c'è tutta la parte del canale che riguarda i colori il fatto che è pre-father post-father e puoi dargli il nome io non so non so come la pensa Pierangelo ma io mi sono trovato per caso ad aiutare un amico insomma live che mi scopriva delle cose e l'ho usato da zero e l'interfaccia mi sembra veramente fatta bene cioè la Qubi proprio intuitiva poi insomma se uno lo smanetta un attimo va parecchi da 30 anni come faccio io più o meno sei già un po' saputo però l'interfaccia grafica aiuta molto sì sì un mixer comunque veloce quindi anche se non hai studiato il manuale te la cavi perché è veramente intuitivo e fatto bene ci stanno tanti mixer che magari fanno anche molte più cose ma non lo puoi usare se non studi il manuale perché anche il semplice routing di un canale magari hai il menu sotto menu e la patch e un sacco di cose la forza di questi mixer qua è che quando li accendi già funzionano cosa che non funziona sempre con i mixer di altissima fascia quindi tu ti potresti ritrovare un mixer acceso tutto collegato e non funziona niente perché devi facciare devi farti un preset del progetto e tante altre cose invece con questi qua vai speditissimo sì è vero questa è una classica poi la soluzione per l'amico mio era cliccare sulla sulla icona di settings la fai vedere un attimo perché spesso e volentieri spugge un attimo se vai più su ancora più su l'altra parte due ecco l'icona numero due anzi adesso è tre che in tutte le pagine comunque quell'icona richiama le impostazioni sul telefonino sul mac ovunque questa qui dici tu sì 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 infatti quella è comodo è pensato per questi contesti live che non fatti stressare troppo insomma qui abbiamo visto alcune altre cose vedi queste è come si presentano i compressori per esempio no sembrano realistici sembrano veri anche l'illuminazione è bello vederli in funzione ti richiama sullo schermo questo noi li abbiamo provati in classe abbiamo fatto mix su su questo mixer e funzionano bene questo è un fet a tutti gli effetti è veloce l'A2A è un opto cioè il suono è figo suonano bene lo sentiremo bene nella prossima poi andiamo avanti qui vabbè qua ti fa vedere varie altre cose l'equalizzatore qui non ci perdiamo neanche tempo perché è talmente semplice la questione si capisce facilmente scusa in questo manuale no ci sono anche già delle impostazioni cioè che danno delle idee dei suggerimenti di impostazione su sì così sulla batteria non so rullante ti danno allora dentro c'è già ci stanno dei preset dentro ai canali di questo mixer no ma anche a livello proprio di grafico sul manuale tipo per esempio su Yamaha sullo 0.1 all'ultima pagina c'erano tutti gli strumenti e ti diceva guarda qui ci sta quello lì diciamo quello fa parte un po' della tecnica del suono qui ci sta e ci stanno anche degli esempi di microfonazione addirittura quindi adesso andiamo a vederli qui l'AuxSend quando schiaccia AuxSend sulla schermata cambia schermata e diventa tutte le mandate agli Aux user mode ti dice in che tipo di modalità stai quindi puoi creare un controllo di fat channel diciamo personalizzato queste le sorgenti abbiamo già detto prima USB analogico SD card e qui l'input meter è semplice l'abbiamo detto anche prima cioè questo è l'input e questo invece quanto agisce il compressore il gate questo invece è la schermata di routing e quindi tu qui a ogni singolo in unica invece di farlo canale per canale a ogni singolo ingresso puoi dirgli che tipo di collegamento è questo per esempio è questo qui è collegato con l'analogico quindi tu puoi andare a schiacciare set schiacci USB e lui diventa USB e via dicendo in una schermata puoi farlo tutto quanto insieme invece di farlo canale per canale ecco qua questo infatti vi farvi vedere i tre esempi questo è la polarità quindi puoi invertire la polarità del canale la phantom zero link e l'abbiamo detto ti fa tutto ti spiega tutta quella storia tutta quella storia dei linking quando link i canali dice che i seguenti parametri sono sempre mantenuti identici nel link quando link i due canali o bus e sono l'input l'assegnazione dell'input il tipo di canale quasi tutto praticamente poi mono e centro questo l'abbiamo visto main subgroup questo qui dove vai a finire con il main e il subgroup quindi puoi assegnarlo in uscita no praticamente il canale che assegni in uscita quindi vai direttamente al main o prima passi per un subgroup quindi tu questo qui non lo selezioni non passi per nessun subgroup poi qui che altro c'è questo è forte questo qua questo ovviamente ti consente di gestire il tape da dietro che inserisci oppure prendere l'audio dal bluetooth che carino quando c'è prima di un concerto prendi l'audio dal bluetooth e gli mandi la musica al mixer praticamente riesci a prenderlo dal bluetooth e questo ovviamente gestisce il volume del bluetooth quando lo metti all'interno questo girando questo sulla seconda bancata del canale main corrisponde il father che si alza in corrispondenza del del tape control e poi prendere due bluetooth contemporanei può prendere fino a due bluetooth contemporanei contemporanei significa che ne registra due ma uno solo può mandare il segnale non può prendere due segnali insieme ovviamente poi qui sotto che c'è a questo l'Sd l'abbiamo detto anche soundcheck questo fa il soundcheck virtuale cioè carica il canale che ti sei preparato sull'Sd quindi ti fa un soundcheck virtuale cioè precarica il canale invece qui quando vai a registrare è semplicissimo fai la prima cosa lo speed test e lo vedremo questo qui lui in un attimo fa il test di questo canale e poi ti dice quanti canali contemporanei riesce a prendere puoi caricare la sessione se te la sei preparato sulla schedina oppure puoi fare una nuova sessione e dire praticamente al vedete qui c'è scritto può registrare fino a 27 tracce ecco qua te lo dice prima per esempio no puoi creare una nuova sessione gli dai il nome e che tipo di performance location dove stai tutto quanto vado a rouge e parti con la registrazione come funziona la registrazione si apre questa schermata interna è semplicissima allora intanto come prima cosa puoi scegliere se armare questo è un concetto analogo a tanti altri contesti armare tutte le tracce selezionare quali tracce vuoi armare quindi se tu fai all diventano tutte rosse lampeggianti se tu fai select lampeggiano tutte e tu vai a toccare quelle che vuoi registrare i canali che vuoi registrare perché puoi registrare solamente alcuni per esempio potresti registrare solamente left e right faccio un esempio quindi a quel punto toccando il canale quello smette di lampeggiare diventa rosso fisso quindi facilmente riesce a capire quello che stai facendo questo ha la differenza tra 4 all e all channel to sd input aspetta una famiglia allora il 4 touch and this button will arm all 34 for recording this will record all 32 ci va bene invece il 6 post time come scherzo si muove a scatti il 6 invece qual è la differenza all channel to sd input touch and this button to root audio from capture session ah ecco from capture session to the input channels quindi tu praticamente il 6 questo abbiamo visto prima si utilizza quando tu hai preparato una sessione e gli dici di trasferire le informazioni della sessione quindi dalla sessione già hai deciso quali sono i canali che devono essere registrati poi una volta armato tutto questa parte qua allora armato tutto quanto la parte jog vabbè è semplice la parte jog se tocchi jog lo solito pomello unico centrale serve a scorrere avanti e indietro il righello la timeline ok una volta armato tutto quanto e poi ti compare il pulsante rack qua sotto che è fisico un pulsante fisico lo schiaccia e parte la registrazione appena parte la registrazione senza neanche esigenza di bloccare il lucchetto lui automaticamente lo mette in chiusura quindi prima questo considerate questa schermata qui una volta partita la registrazione non la rivedi più perché sta nella stessa schermata generica di ogni altro comando quindi come parte la registrazione anche qualora dovessi per sbaglio toccare il pulsante stop fisico che hai davanti a te sul mixer lui non bloccherebbe la registrazione perché dovresti ritornare sulla schermata di registrazione sbloccare il lucchetto e a quel punto puoi mettere stop questo è pensato appositamente per evitare che ti possa sbagliare secondo me è anche meglio il fatto che ci sia una schedina SD rispetto all'USB perché l'SD è tutta inglobata all'interno la schedina USB invece è mobile sopra potresti muoverla in qualche maniera tant'è vero che i mixer digitali tra Roland hanno lo sportelletto e quindi anche l'USB viene inserita completamente all'interno io con le chiavette USB a vista così mi fanno sempre impressione perché per sbaglio potresti toccarla che ne so invece quello di sending che te la dentro non riesci a muoverla qui tutta la parte soundcheck virtuale se te la sei preparata prima e questi sono i bottoni i pulsanti di trasporto quindi quando sta in REC anche toccando stop lui non fa niente play per risentirlo e questo per tornare indietro mi pare che questi su tutti i commenti abbiamo visto quasi tutto questo è il pomellone centrale che vi dicevo prima FX se chiaccio FX compagno FX sopra ho UCnet è la rete diciamo di controllo di controller quindi quando schiacci UCnet ti fa vedere come sta funzionando la rete di controllo cosa sta controllando il tasto DO invece la passa in modalità controller quindi a quel punto continua a funzionare allora continua a funzionare a funzionare come mixer però quando tu schiacci DO quello che hai lì davanti è il controller di qualcosa non è più il diciamo il father che comanda il il suono diventa un controller poi studiare il rack effetti di far vedere tutti quanti effetti poi mutare gli effetti esiste anche la possibilità di mutare gli effetti ecco nel nostro mix ce ne sono solamente 4 invece sono messi 8 poi puoi fare un main mute dell'effetto da qua senza andarla a cercare c'era sempre a vista il tap per chi non l'avesse mai visto prima il tap serve per alcuni tipi di effetto a dare un tempo per esempio il classico è il delay quindi se abbiamo un effetto di delay schiacciando il tap gli puoi dare senti cioè sul brano quello sta andando la cantante tu lo segui col tap delay in quel momento ti prepari prima quando quella deve fare un delay attivi il delay e il delay perfettamente a tempo perché l'hai impostato tu a mano prima poi niente questo abbiamo detto un bel po' dirò perché su tutta la parte riverberi questa è la parte che vedremo un po' più avanti vari effetti delay riverberi chorus flanger che ho visto prima si chorus e flanger qui preset come si salvano ucnet e l'abbiamo detto un protocollo di trasporto vedete quando io faccio ucnet schiaccio ucnet lui capisce com'è il sistema di controllo e ti dà la possibilità di andare a vedere cosa è collegato in questo controllo quindi puoi dirgli se deve essere un controllo di software oppure un controllo per esempio di sd card poi altre cose questo è il nome che tu dai al progetto questo invece e questo è presente quando tu dai quando tu metti sotto controllo tutto il mixer gli puoi dire cosa può controllare che tipo di permesso ha quindi praticamente facciamo un esempio mi si collega l'iPad di Luigi che di solito Luigi sempre iPad Luigi qui io troverei iPad Luigi posso dirgli cosa lui può fare in questa configurazione lui può gestire front of house e tutto il resto quindi io potrei dirgli del front of house gestisci tutto oppure potrei dirgli del front of house gestisci solamente gli effetti faccio un esempio no? così tutto oppure potrei dirgli invece front of house io qui clicco questo esce un house e gli dico tu con l'iPad gestisci solamente l'HAUX 3 quindi tu poi qui gestite questo particolare software control lui dice vabbè questo che abbiamo detto prima Logic Pro Tools e Studio One sono perfettamente ottimizzati gli altri invece no devi farlo a mano qui tutta la storia della Do questa la salta tutta quanta perché è abbastanza inutile perché poi lui si perde nella questione del nella questione del dello Studio One qua vabbè questi sono altri parametri questi io li salterai tutti quanti ah qui c'è una radio edit qui c'è allora qui ci sono delle cose quando sei in solo questo lo vediamo prima vedete puoi fare questo puoi dirgli se è una latch radio cr cioè qui puoi dargli dei parametri per fare per controllare alcuni passaggi questa la salterai pure questa abbiamo ampiamente detta ah un'altra cosa carina che può fare questo che mi piace molto è l'assegnazione dell'equalizzatore grafico sui fader quindi praticamente c'è un pulsante che si chiama eq qualcosa mi ricordo sopra al main quando lo schiacci sta sopra il canale del main gq si chiama gq g e q praticamente questo che vedete qua sono un'equalizzatura a 32 canali che corrispondono esattamente ai 32 fader davanti a te quindi in quel momento quando schiacci quello tutto il tutta la tutta la spalmata di tutti quanti i canali può funzionare come equalizzatore a 32 canali del del front of house e questo può essere molto molto utile equalizzatore a 31 bande 31 c'è scritto? a 31 si vede che si vede che si bande nel senso certo bande ti dice pure più o meno ti dice come sta ecco tanta es non ti dà la precisione però 32 bande si si è comodissimo questo qua perché questo si può mettere per esempio pure sulle aux certo pure sulle mandate è comodissimo quando tu magari stai col controllo sull'iPad devi andare a fare il monitoraggio ai musicisti e eventualmente vai a togliere feedback rientri cose varie insomma che vanno a rendere l'ascolto più difficoltoso oppure per allineare diciamo così calibrare il man out quindi l'ascolto del pubblico quindi dare un'equalizzazione magari finale di tutto l'ascolto ok quindi gli dai tu father e quello lì lo fa su questa maniera chiaramente come diceva Pierangio vedete può essere assegnato anche ai mix quindi puoi farlo come diceva lui ecco Jack Q si chiama su ogni singolo cioè puoi dire dove deve andare a fare questa assegnazione questo stessa questione poi questo è l'home qui fa altre cose questa rapidamente qui gli dai il profilo l'audio routing le talkback edit ci richiama alcuni parametri che stanno sul lato sinistro e soft power questo è importantissimo perché se spacca facilmente questo mixer se lo spegni senza fare la procedura di spegnimento deve essere spento come un computer quindi soft power e poi spegnimento questa è una cosa che ha inserito da poco qui puoi modificare il firmware che lui prende direttamente dalla rete quindi se è collegato su un router che a sua volta è collegato a internet può aggiornare il firmware direttamente senza fare nessun tipo di immissione con l'SD se no puoi utilizzare l'SD qua bluetooth qua mi pare che questi sono ah il sample rate è importante allora diversamente da altri mixer che girano solamente a 48 kHz e quando vengono utilizzati come schede grafiche come schede audio questo può funzionare anche con un sample rate a 44 e 100 di recente è stata fatta questa modifica prima gira solamente a 48 chiaramente va vista perché dovete saperlo che questo qui non dare per scontato che sia a 48 perché può essere a 44 può prendere un clock interno oppure esterno e si segna meno male comunque quella cosa è buona ci sono macchine che lavorano solo a 48 secondo me tutti i mixer poi alla fine vanno a 48 immagino anche il motivo però avere questa opzione ti dà più flessibilità sì 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 questa è un'intero introdotto da poco considerate io lo comprai all'epoca un paio d'anni fa e c'era scritto nella scatola presto a 48 presto controller e siamo andati avanti in anno e mezzo appena hanno messo controllo eccetera si è spaccato l'usb meno male cinque giorni prima della scadenza della garanzia quindi partiva a 44 non a 48 c'erano solo a 48 ah ok e poi hanno introdotto poi dopo hanno introdotto il 44 e 100 questo qui sono stati di parola e niente questo vari pulsanti possono essere assegnati come te parate a qualsiasi tipo di comando questa è la parte principale il link l'abbiamo detto i profili l'abbiamo detto questo è digital patching questo qui chiaramente il manuale è disponibile su internet prima della prossima lezione voi oltre a se vi fate studiatevelo insomma date un'occhiata in modo che la prossima siamo ah questo è carino questo è martedì la funzione martedì martedì grasso è bellissima quella è bellissima quella se la fai vedere a una ragazza poi dopo ti può dare soddisfazione perché si accendono tutte le lucette e si muove come un serpente i fader ci si fanno i video ci si fanno i bellissimo si ce l'ho sul faderport rgb button fa le stesse cose ma solamente accende tutte le lucette il famoso las vegas mode esatto las vegas è il martedì grasso e niente questi sono sostanzialmente dei test dei test che fanno che poi sostanzialmente questa cosa non è che sia completamente inutile se uno ci pensa serve a verificare che funzioni tutto quando lo compri dovrebbe essere la prima cosa che fai girare esatto usato furio racconta l'aneddoto dell'amico nostro qual è? del mio ex studio ah no vabbè allora tempo fa collaboravo con uno studio che poi ha preso ha rilevato Pierangelo in tempi non sospetti che adesso l'ha rilasciato e praticamente chi gestiva quello studio non si possono fare nomi perché poi è un amico pure mi dispiace però non era molto pratico faceva muratore lui però siccome la figlia cantava c'era qualche soldo ho fatto questo investimento pazzesco con uno studio con pianoforti cose c'era speso un botto e aveva una C24 tutte le mattine una volta vado giù sento sto rumore perché sai C24 si muove tutto sto il Mardi Gras Las Vegas Mod fa un rumore sento sta cosa ho sentito da fuori il cortile che era venuto a trovarlo scendo giù ma che fai tutte le mattine se guardava sti fater tutte le mattine faceva a girare sti fater dice no questo è importantissimo è come le macchine vanno scaldate cioè lui scaldava tutte le mattine sti fater e stava là un quarto d'ora ma ti dico un quarto d'ora guardasse sti fater così prima di cominciare la grande registrazione della giornata che non c'era poi no cioè non era poveraccio era una persona in gambo però non era in condizioni non era a loro suo però nella sua testa sto Mardi Gras era fondamentale Las Vegas Mod faceva ho perso tanti anni a Frosinone al conservatore che poi non ho potuto fare il Las Vegas Mod sulla C24 loro bello però che era come tornare indietro solo per quello adesso ho saputo la C24 funziona pure con altri protocolli può funzionare pure con Cubase e compagnia cantante ma ecco perché c'era terremoto qualche giorno si questo invece qui carino questo ti spiega se uno c'è un po' di pazienza si può leggere come si microfona un gran piano una chitarra elettrica con condensatore con dinamico scusa se ti interrompo e faccio un po' il pedante però per chi fa lezione con me o meno la lettura del manuale cioè di questo tipo di manuali per esempio i manuali delle genele che ti dicono come posizionare le casse cioè leggere i manuali è veramente molto importante perché ti spiegano anche come usare questa qua non è l'unico modo per riprendere una chitarra acustica come Pierangelo mi dirà però se uno non ne sa nulla comincia a questo certo se non hai mai visto registrare una cosa questo chiti un'idea te la dà chiaramente ma poi da lì te la puoi aggiustare come riusci meglio guarda ste valvoli a vista che belle quindi questo qui ti fa vedere un po' vedi anche qui ti fa vedere un po' alcune cose ti dà dei consigli su come si riprende carino tra l'altro insomma con tantissimi qualcuno c'è alcune di quelle tecniche le ho spiegate mi fai vedere la batteria quando si parla quando ho accennato la XY l'altro giorno quella è quindi sopra qual è sopra la batteria dove la è come come puoi rivederla ecco qua sono messi ho detto quelli sopra la batteria i overraid no? come si chiama? overraid overraid sì esatto sopra la testa del batterista qui ti dice anche quali questi sono preset sostanzialmente ti dice un po' secondo loro come deve essere se un preset se uno se lo vede può avere un'idea iniziale per capire un po' come l'ha pensata che se è carino uno se lo ripassa se lo rilegge un po' percussione no però scusa 0,002 millisecondi sì l'attacco sì vabbè questa la suggerisce così che ti devo dire queste come tutti i preset lasciano tempo che trovano perché poi questa invece la curiosità è sapere se c'è un'unità inferiore al millisecondo perché per essere millisecondi la script dovrebbe essere 0,002 secondi non so se sì sì ho capito secondo me arriva pure ai microsecondi sì sì pure il gate sì sì no ci sono alcuni plugin che arrivano così in basso questo ci arriva qui invece quali sono le sibilanti tipiche da tagliare questo è interessante pure questo uno se la legge no quali sono le sibilanti tipiche se le mandi leggiamo questo è interessante no per esempio ti dice che non so sibilante a 7 kHz la voce umana tagliare 7 kHz e gli tagli la sibilante cosa incrementare 8 kHz big sound questo è be carino sembra quelle guide d'epoca no poi questo pure è interessante questa è la classica se ne ho visto un milione di queste qui in giro ti dice cosa aumentare e cosa tagliare per ogni singolo strumento nella gamma di frequenza complessiva di queste se ne sono viste tante però questo sai sono quelle cose che uno al bagno se le legge volentieri percussioni pop ti dà dei suggerimenti quindi uno vuole perderci un po' di tempo ci si può mettere questo questo per esempio ecco questa è la questione delle fasi penso che sia questa la questione qui no sì ok questo uno se lo può leggere tutti i vari passaggi questo esorcio di delay questo che l'abbiamo visto prima i delay sul sistema e questo è proprio il classico discorso che facciamo noi prima e qui praticamente sta facendo questo tipo di operazione e ti fa vedere le due casse rivolte verso di lui una ria prima l'altra ria dopo e quindi evidente should be noted that frequency is in the bass range in the number of frequency in the distribution in fact delay the system pass filter should be loaded up as vabbè ti dice che è una frequenza bassa ti dà delle informazioni riguardanti questo che stiamo dicendo noi da un po' stessa storia qui questo è quello diceva Pierangelo della questione dei ritardi sui bus sui questo invece c'era anche il sidechain qui dentro quindi anche la possibilità di fare il sidechain il sidechain è praticamente un trigger che viene applicato sul compressore di un canale e prende l'impulso da un altro canale questo principalmente questo non andiamo a spiegare che è il sidechain più di questo perché poi non era questo l'oggetto la cosa queste invece le informazioni tecniche abbiamo quasi finito resistete allora le informazioni tecniche ti dà dei parametri di massima di questo anche dettagliati di questo preamplificatore il cui max input level è 12 di più quindi meno 8 quindi meno 8 quindi noi siamo a meno 8 qui quindi non ha anche quel mixer ti prende in giro perché il led diventa giallo a meno 12 però in realtà è meno 8 ok ma sta si è andata a ricordare una cosa del genere cacchio sì perché quando abbiamo fatto in classe i ragazzi ce ne siamo accorti ok quindi questa è la cosa uno se lo può vedere qui altri parametri ti puoi andare a vedere il cross talk il cross talk per chi non sa cos'è probabilmente il passaggio di un audio sull'altro canale vicino che è meno 90 o meno 87 tu canale adiacente input to output meno 90 quindi quasi impercettibile poi questo tutti quanti schermini vari come si può vedere mi pare che siamo nella fase reference level 2 0 di BFS qual era? dov'era? torno su? lì questo che parametro volevi sapere? aspetta non ti sento Claudio chiedisci un po' maximum input level no più giù ma oddio vai l'altra pagina reference level for 0 di BFS ok più 18 di B o cosa? più 18 di B ok quindi poi qui altri parametri questi sono proprio parametri di impostazione super nerd qui diagramma blocchi vabbè se uno si vuole proprio mettere a leggersi il diagramma blocchi che proprio vuole andare nel trip totale lo può fare e questo invece che è? added bonus pre-sonus preview stop si tre-si poll 5 che è afficchiata 4 patate bianche poi credete ha messo una ricetta vera sì una ricetta vera pedrare le patate e bollirle finché non diventano morbide figata ma perché sta cosa? gli americani sono come i bambini il segreto vedi? cioè sono come i bambini che cazzo i polpetti non sono come i bambini hanno un senso dell'umorismo decente che tra l'altro mi appartiene completamente la vorrei leggere quella ricetta poi anzi me la vado a scaricare domani lui si farà le patate le polpette le patate e va bene questa è come si presenta senti Furio ho notato mentre facevi scorrere le specifiche l'usb è 2.0 perché? nel senso visto che le pre-sonus le schede audio adesso sono tutte 3.0 ma guarda ti posso rispondere io non sono tutte 3.0 molte sono 2.0 io sto usando una Fireface 802 che è usb2 anche se l'attacco a un usb3 però la banda passante per il numero di canali è sciacquamotto cioè ce ne sta hai voglia di banda passante per far passare dei canali a 44 e 100 24 bit o anche 32 bit ogni traccia sono 88 kilobyte al 7 kilobyte al secondo però con il fatto che adesso stanno uscendo queste usb-c no? le pre-sonus ho visto delle ultime le ha messe tutte usb-c quello è solo un formato di form factor non è un fatto di velocità se sul mercato ci stanno un sacco di computer Apple musica quello è la cosa il resto si adegua la stessa cosa credo che Pierangelo possiamo dire correggimi se sbaglio che sia accaduta per la Firewire che comunque ha tratto un sacco di produttori a fare quelle schede lì e poi sono usciti di schede texasi strumenti da mettere dentro i pc per carità io sono uno che è stato danneggiato dalla Firewire perché mi tocca comprare un'altra scheda audio perché io ho la Tascam vecchia e il Windows 10 non esiste più quindi figuriamoci certo è mai successo troppo quelli sono diciamo obbrobri tecnologici di cui penso che molti quasi hanno stati vittime cioè io mi sono perso con il passaggio da un sistema per esempio all'altro scheda usd cose varie figurati tanti anni una via crucis almeno su me e sembra tanto bello e comodo però per certe cose e certe cose ha avuto un passaggio e un cambio di tecnologia hardware e software che ti potrei descrivere adesso passo per passo negli anni ma evito però si è cambiato molto per motivi seri anche per motivi un po' di marketing però fondamentalmente per motivi seri cioè non potevano ancora continuare a usare processori fatti da IBM e comunque IBM e Motorola e hanno dovuto per forza cedere a Intel per questioni proprio di prezzo e quello là è stato l'ultimo passaggio di almeno altri 4-5 diciamo come dire passaggi da sistemi software e hardware diversi e quelli più moderni purtroppo è così certo va bene quindi questa era la situazione di questo mixer che abbiamo visto mi sentite voi adesso che parlo sì quindi niente questa è la cosa adesso prossimamente faremo una una dimostrazione con Pierangelo che poi se a piacere hai Pierangelo te lo facciamo io ti faccio da fonico e ripresa video così almeno ti devi stare a stressare con le telecamere schifose USB bravo e quindi lo mandiamo mi porto 4 telecamere mi porto 4 telecamere e ce l'ho tutta io ho la valigia del maniaco 4 telecamere ho comprato come le luci abbiamo le luci pure le luci ci pensi tu 300 euro a luce quella non me ne porto no 4 telecamere sono belle perché ho lo switch posso fare la zoomatina le cose senza facciamo una cosetta carina e quindi la prova pratica di questo di questo mixer e la faremo fare a Pierangelo prossimamente vengo da te a studio me lo porto e e lo mandiamo in diretta a facebook quell'altra come almeno perché parecchie persone ci hanno chiesto e potremmo superare le 100 quindi non non possiamo farlo tramite zoom sì una cosa volevo dire che ormai al giorno d'oggi troverete se vi capita di fare live soltanto mixer digitali anche a livelli molto piccoli l'analogico non è più contemplato però ricordatevi che anche il digitale deriva dall'analogico quindi in molti il modo di lavorare in digitale è analogico tra virgolette nel senso che il routing interno quindi le mandate che cosa è una mandata che cosa è un insert sono tutte cose che provengono dall'analogico quindi studiarvi anche un mixer analogico secondo me vi può giovare tantissimo e studiare un manuale di un mixer analogico e avere mix analogico davanti vi fa capire anche meglio che cosa succede in digitale e ce ne stanno tanti di manuali anche gli stessi Yamaha MG hanno dei manuali fatti molto molto bene in analogico quindi il consiglio che vi do è studiatevi anche i mixer analogici oh chiedeva Vincenzo Vincenzo mi hai chiesto qui per queste slide queste slide che stai vedendo sono semplicemente il manuale di istruzioni quindi user manual te la presonus su google te lo trovi tranquillamente scaricabile gratuitamente ma non le hai scritte tu tutte quante ma tu saresti capace però tu saresti capace anzi pure meglio ok grazie Furio quindi tu scrivi user manual presonus studio lave 32 3 tipo di terza serie ok ok ho pure 64s è la stessa cosa questo qui è 64s Pierangelo ti posso fare una domanda prima mi hai detto hai una cosa per calcolare la distanza si chiama il smart smart v8 smart v8 razional acustica è la razional ok smart v8 grazie vediamolo subito questa cosa qua vediamola subito cedevamo il pensiero già che abbiamo detta eh purtroppo è a pagamento però vale la pena forza perché dovrebbero l'ora gratis guarda che roba che fa spettrogramma non è un programmino insomma ci puoi fare tante cose con questo roba grossa e questo ha bisogno di un microfono particolare o funziona un qualsiasi microfono microfono di misurazione qualsiasi qualsiasi microfono di misurazione non generico no no ma guarda io ho visto fonici lavorare anche con le cm 8000 della behringer che costa 30 euro dipende quello che ci devi fare cioè se vuoi avere un calcolo per esempio del ritardo ti basta pure il microfono della chicco se invece vuoi fare un allineamento quindi un'equalizzazione dell'impianto se c'hai un microfono più affidabile è sicuramente meglio costa bene no insomma un punto di partenza un Behringer da 50 euro quello là di Sonarworks per esempio ciao bravo dentro una casa per uno che comincia va benissimo una spesa che uno può affrontare è meglio di niente le cm8000 penso pure meno aspetta il prezzo del software non cambia molto il microfono eh sì quando dovevo decidere con il Sonarworks prima mi sono preso il pacchetto di Sonarworks anche perché amici mi hanno regalato il software cioè regalato non significa caricato regalato e allora ho detto vabbè io compro il microfono almeno ci guadagnano 10 euro sul microfono infatti che differenza c'è tra SPL e V8 tu lo sai? cioè perché questa differenza di prezzo? e come Element no però l'SPL no l'SPL in realtà serve solo per la misurazione della pressione acustica ah è che basta e alcune altre cose è Sound Pressure Level un fonometro in pratica e basta in pratica senti ma quell'altro che si chiama EREW che è gratis mai usato lo conosci però hai sentito? no no come è SOS? RE R W ecco room e q wizard non mi veniva l'acronimo ah sì 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 l'ho usato in tempi questo è gratis voglio dire con 50 euro ti compri il microfono fa fare la donazione qui come al sito cubase.it sì infatti guarda l'altro giorno ho avuto 20 euro di donazione sono svenuto poi c'è stato il terremoto è cominciato a piovere veramente non so era un anno che non mi facevano donazioni quella era la mamma tua la mamma che ti mandava 20 euro senti ha messo like al tuo post fra Castoro stamattina hai visto? incredibile incredibile a dirsi quindi ti segue eh esatto non l'ha messo a te scusa no il tuo post il post era il tuo io commentavo i cavoli tuoi eh ma l'ha messo al tuo il tuo commento era una cate io perché facevo il ruffiano lo so bisogna stare attenti ricordati non esagerare no ho detto sono serio no sono serio io però ho detto questione di ritorno di immagine però quella la domanda era un allievo che scrive un follower no no l'ho letto l'ho letto se no ti avrebbe cancellato qualche mio collega capito quindi non l'hanno fatto gli sta bene a loro e al post sì ma io se uno dice che mi consigliate di fare voglio comprare versione pro del Cubase il consiglio migliore che ti posso dare visto che costa 600 euro è comprartelo con lo sconto educational e con lo stesso prezzo o anche un po' meno anche una lezione giusto giusto alla fine non è che ho scritto una cosa e poi ti ho menzionato un mese e mezzo a te lo so infatti quello che non l'hanno cancellato sicuro certo vabbè era una cosa non ho fatto il post autonome no no ma infatti tranquillo Furio chiedo scusa sono Telemago volevo fare una domanda se è possibile certo io ho acquistato un mese fa un mixer della Tascam il model 24 si è un mixer analogico consigliato tra l'altro per la qualità dei preamplificatori però insomma vedendo le mixer che hai spiegato te stasera del Presonus insomma non c'ha niente a che vedere insomma sono due prodotti differenti volevo capire se era un prodotto valido oppure no scusa quel Tascam lì non è anche il quello dovrebbe essere l'audio pure che è l'audio ha 24 canali mi pare a me si si quindi è bello quello è bello veramente l'avevo già vista sta cosa è una figata cioè c'ha l'immagine analogica ma è schedato a 24 canali con i preamplificatori ottimi mi piace questo è bello puoi anche registrare con la scheda l'SD interna oppure lo puoi collegare con QB è interessante la questione che dici come lo vedi questo io non ho mai preso in considerazione una cosa del genere ma di questi qua ne hanno fatti tanti la stessa Lenit ha fatto lo Zed la Mac ha fatto l'Onyx 1604 cioè hanno l'approccio analogico quindi questo non il suono la conversione sia analogico che poi c'ha la conversione penso che la conversione sia buona comunque la tacca non fa le cattive di solito questo va a 48 kg 48 kg e 24 bit e poi anche 40 kg questo è buono anche perché tu volendo puoi anche processare teoricamente direttamente qua dentro se tu hai dei processori esterni degli insert oppure l'EQ puoi usare l'EQ del canale lo usi ti puoi fare i monitoraggi perché magari c'ha le AUX e ti è più comodo farlo direttamente sull'analogico quindi c'ha anche i suoi pro è un bel mixer comunque carino anche utilizzato solamente come preamplificatore e convertitore questo che carino sì sì come qualità mi soddisfa insomma però certo non ha tutti questi comandi del digitale ma calcola che quelle cose in studio non ti servono perché quello che c'ha il presonus sono diciamo tutte cose importanti per live ma non per lo studio perché per lo studio c'è il sequenze c'è il QBase che fa tutto quello praticamente ma sono curioso del max input level di sto mixer è sempre motorizzato questo di mixer credo no 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 command F furio command F deve fare sì il problema che io però qua è tastiera sono mischiata e non mi funziona più command F ah sì scrivi la tua chiave di ricerca e vai troppa roba io ho scritto eh mi so che cosa va max eh ma sarà la fine sarà sarà ecco qui allora sarà da queste parti qua per il cross talk meno 80 2 giga di memoria o maggiore dovrebbe stare più o meno qui vai su dovrebbe stare su credo il maximum dovrei scrivere eccolo qua eccolo qua vedete questo ah beh questa è un'altra cosa rispetto a più 10 quindi sui microfoni questa è la linea invece di più 10 eccolo qua ok c'è più dinamica quell'altro avrei detto il contrario scusa non ho capito io è questo che ha più questa è meno dinamica di quell'altro quell'altro sta più 14 ah ok ok va beh insomma questa è la storia va bene ragazzi mi pare che si è fatta una certa si si è fatta una certa abbiamo visto un po' le cose è stata una bella serata abbiamo passato in compagnia io spero che i ragazzini di classe si siano addormentati modell'ancora stanno a menasse capace questi speriamo di no sento dei rumori però ciao Diego anche a te buonanotte grazie buonanotte a tutti ciao ragazzi ragazzi a tutti ci vediamo domani ciao 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 ciao